L'Anima Oscura Capitolo 14 Credevo di conoscerlo a menadito, questo libro Eppure un capitolo 14 non c'è mai stato Questo segno oscuro mi fa male L'eroe si alza dalla cenere di cui è composto E cammina verso troni Che dovrà presto riempire con i resti di suoi simili L'inizio Dell'avventura Di F Che scherzo non è questo? Perché questo libro parla di me? Chi ha inserito un capitolo del genere? In questo affare? Sei stato Tupi? Sei stato Tupi? Chi ha scritto questo libro? Grazie a tutti Grazie per la visione 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 anche come seconda spalla diciamo su Tornea dei Sette Fiori quindi sappiate che le ultime puntate avranno anche il suo contributo perché vogliamo fare di più e ancora meglio quindi anche Sara entra ufficialmente nel team e a tal proposito direi shout out del canale Twitch di Sara che ha cominciato da poco che è twitch.com slash saracampolo quindi se la volete andare a trovare insomma vedrete anche i suoi lavori e questo lo dico a entrambe le chat grazie poi a Camilla che si è occupata anche di questo tv edit quindi che ha ridotto a un minuto e trenta una canzone che in realtà dura sei minuti quindi non è stato semplice e ovviamente un grazie anche a Chiara che si è occupata poi di montare la sigla a tempo di avere tutti quanti i vari tagli fatti a mestiere e insomma veramente un bel momento per il nostro canale per i nostri canali che secondo me con questa sigla siamo cioè sono arrivati a un livello superiore successivo rispetto anche a quanto fatto con Dark Souls 2 lo è assolutamente è superiore è superiore e la cosa più figa ragazzi è che non è l'ultimo livello ah no 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 sì vabbè ancora Elden Ring e Bloodborne io non ho idea di cosa succederà semplicemente per oggi ovviamente vi dico grazie grazie a tutti coloro che stanno supportando questa iniziativa questa serie di Dark Souls grazie davvero anche solo leggervi che avete i brividi fa venire i brividi anche a noi infatti è quasi quasi un dispiacere dico quasi perché comunque era importante darle la massima priorità ma è un peccato che la chat durante la sigla non sia registrata in alcun dove salvo ovviamente il VOD quello sicuramente è sempre interno però poi andrà perso però poi andrà perso eh ma si può mettere in evidenza cioè facciamolo esatto esatto facciamolo veramente ragazzi io e noi vi leggiavamo in quel momento eravamo con la paresi facciare è bellissimo ah è vero anch'io mi fanno male le guanti esatto ma poi tra l'altro io mi sono durante il pomeriggio in cui ovviamente l'ho già vista prima di pubblicarla qua insieme a voi mi sono praticamente commosso se pensare il percorso che abbiamo fatto è il fatto che quelli sono i nostri personaggi attraverso il terzo capitolo giocato insieme in quello che poi è stata anche la tua discussione sul fandom sulla tua esperienza sul tuo esserne erede in qualche modo del lavoro precedente è bellissimo quindi benvenuti grazie e benvenuto Saido eccoci eh benvenuti e qui c'è da parlare di un botto di roba innanzitutto del risvolto di eh lore role play che c'è in F ehm sì F comincia a vedere eh che nel libro appaiono pagine e capitoli precedentemente inesistenti eh questo probabilmente è dovuto alla strana stagnazione del tempo al fatto che ci sia la convergenza di cui abbiamo parlato nello scorso episodio e quindi questo libro sta vedendo aggiunte pagine che lui non conosce ed è vero che lui non l'ha mai letto tutto con attenzione però è altrettanto vero che F sa bene di quante pagine è composto quel libro lui salta tra i capitoli perché non ritiene il libro degno di ehm essere letto dall'inizio alla fine no? è un po' come un album che ascolti distrattamente perché sai che non tutte le le canzoni ne valgono la pena certo però vede apparire questo capitolo extra e lo legge molto incuriosito pensando che si tratti di uno scherzo di P di una dimenticanza sua e il fatto che venga fuori che quel capitolo parla di lui lo sconvolge perché va contro tutto ciò che F ha creduto sinora e che in realtà aveva già cominciato a vacillare con il modo in cui i guardiani di Farron dell'abisso coincidevano con le storie popolari adesso però non c'è più dubbio F può credere che quelli siano cosplayer che siano fanatici no? che al di là del termine che uso io che siano fanatici no? che cercano di riprendere le fattezze di guerrieri leggendari che popolano miti e storie folcloristiche ma non può non credere a se stesso non può non credere che quella sia la sua storia perché è inequivocabile esatto e perdonami qua sono arrivati 100 abbonamenti in regalo quindi mi è arrivata una sincope però fateli anche di là eh mi raccomando per me questa cosa è importantissima non è dovere ma grazie grazie anche solo di dirlo è preziosissimo per me è dovere morà grazie grazie davvero e quindi dicevo insomma F è sconvolto è sconvolto perché l'anima oscura è anche la sua storia è successo è successo? grazie ragazzi siete dei grandi fuori di testa adesso poi sicuramente in chiusura tra tante ore farò un discorsetto a questo riguardo grazie e anche benvenuti da entrambi i canali a chi ha ricevuto a sua volta il dono siete veramente dei grandi siete veramente dei grandi incredibile e io l'ho detto l'ho detto a Michele off stream il giorno in cui è esploso il web ovvero il giorno del leak di Twitch e bla 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 ho detto Michele la verità è che noi siamo fortunati perché siamo in questo Olimpo insieme ai nostri subscriber insieme alle persone che ci seguono e siamo sopra tutti questi casini qui ci divertiamo e vedo la gente divertirsi a supportarci ed è un circolo virtuoso che siamo ormai da un anno che figata il termine gelido è pedigree il termine più romantico è percorso cioè noi il modo in cui siamo partiti come ci siamo esposti ciò che facciamo come lo facciamo eccetera 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 ma prego adesso continua sotto il profilo di F e quindi appunto F è essere fatto e non capisce chi abbia scritto questo libro come faccio a sapere di lui perché chiaramente la parte razionale di F ha ancora la meglio e quindi F crede che questo sia uno scherzo un altro scherzo ai suoi danni che qualcuno che però a questo punto lo conosce magari lo sta pedinando sta scrivendo di lui nel libro però allo stesso tempo non tornano i fatti quel libro non si è mai allontanato da lui come fa ad aggiungere queste pagine? e come fanno queste pagine a riempirsi di storie che in teoria quasi solo lui conosce con questo dettaglio ovviamente questa risposta non la F e forse non la ho neanche io adesso ma d'ora in poi F dovrà fare i conti con il fatto che tutto ciò che leggerà nell'anima oscura potrebbe effettivamente corrispondere almeno in parte a verità nella sigla come avete visto ci sono tutte le parti salienti delle nostre precedenti esperienze che F conosce molto bene il momento in cui Sabaku II indica a Firenze la strada per il demone vagante il momento in cui Firenze e Sabaku II trovano la più grande intesa la forbice del deserto che taglia in due manus e le lame della forbice che si separano per sempre allievo e maestro che si scontrano davanti al luogo del vincolo di Gwyn e Firenze che ha la meglio o almeno nella nostra visione Firenze ha la meglio e chissà magari in un'altra versione diversa della storia è Sabaku II ad avere la meglio e vincolarsi questo lo scopriremo con Dark Souls 3 qual è il vero punto di vista infatti nel libro di F non vediamo come va a finire vediamo solo che esiste uno scontro che è l'unico momento chiave irrimovibile poi mentre F continua a leggere vediamo Tortisio abbandonata da Joel e Cassandro che si mettono in viaggio per vincolare anche essi e poi loro che hanno dei dubbi davanti al falò del re di ferro infine Joel che debole abbandona Cassandro senza farsi vedere Cassandro che invece percepisce il maestro che va via ma sa che c'è qualcosa più importante da fare ovvero Nascandra e quindi procede oltre e poi appunto F continua a sfogliare le pagine finché non trova se stesso e chiaramente anch'io ho delle domande su questo opening e voi direte ma sei bipolare Cydonia l'hai fatta tu no perché Michele ha inserito all'interno dell'opening delle immagini o dei significati che io non avevo previsto né sceneggiato e dei quali ora ovviamente mi interrogo dopo questa prima visione per esempio ho scritto io che Phalanx sarebbe stato sveglio nel momento di panico di F e non sappiamo se perché ha sempre fatto finta di dormire in quella scena o magari perché è stato svegliato dall'urlo che F ha cacciato quando ha visto che nel libro appunto si parla di sé però Michele ha aggiunto questo dettaglio lo avrete visto tutti di Phalanx che ha delle venature di braci sul corpo che ricordano molto quelle dei Lord of Cinder e quindi io mi sto già facendo le domande che significa? Phalanx non può essere un Lord of Cinder perché Phalanx è un unkindled merdoso come me a meno che non stia mentendo a F ma F questo non lo può sapere perché F non può vedere la sigla e non può vedere Phalanx lo vediamo noi da spettatori lo vedo io da streamer ma F in quel momento sta semplicemente guardando il libro quindi quelle braci non sono percepite da lui e credo che Phalanx gliele nasconda dunque vedremo come si evolverà il nostro roleplay vedremo chi è Phalanx perché ha quelle venature vedremo chi è F e perché ha un libro che parla di se stesso ma insomma questa storia ce la racconteranno le puntate successive e sicuramente non quella odierna meraviglioso quella odierna deve trattare di un argomento su tutti il dipinto? sì amico mio il colpo di scena non mi scappi io ho aspettato questo venerdì solamente per parlarti del dipinto del cazzo no in realtà appunto c'è stata ragazzi non ne abbiamo parlato mezza volta in privato ci stiamo trattenuti tantissimo no io ti aspettavo al marco esatto io ho detto aspetta che stasera adesso ti fermo e ti blocco 40 minuti parlando del dipinto beh guarda se c'è un momento in cui farlo è vero non hai fatto un passo però rimane la realtà dei fatti che tu hai trovato questo NPC così prostrato e disperato per la dea dei perduti dei Forlorn e tramite un frammento e questa è la prima cosa di cui voglio parlarti vai il mondo è tuo frammento allora partiamo dal principio caro maestro il mondo dipinto di Ariamis è il primo e unico fino ad ora mondo dipinto esplorato sì il dipinto che abbiamo trovato a Lordran era intero il che mi ha fatto pensare che un dipinto può fungere da portale solamente se è ancora integro del resto avevamo degli assassini a guardia di quel dipinto sì e quindi ho pensato che la sua integrità fosse quantomeno fondamentale per il funzionamento dello stesso ma non sembra essere questo il caso pare di no il che mi fa capire anche perché vi fossero a guardia ma ci arriviamo interessante ho capito cosa vuoi dire hai capito? smart hai capito ora ci arriviamo il dipinto di Ariandel è effettivamente un dipinto che funziona in maniera identica è un portale per un altro mondo sembrerebbe anche condividere con Ariamis il freddo, il gelo, la neve ma magari è un caso quindi per ora due su due hanno temperature molto basse ma potrebbe essere, ripeto, una casualità quel che è certo è che entrambi funzionano allo stesso modo i dipinti traslano coloro che li toccano in un mondo diverso che è il mondo dipinto evidentemente all'interno della tela sulla tela se però è vero che questi dipinti funzionano anche se frammentati ed è altrettanto vero che noi usciamo dal dipinto quando ci buttiamo dal dirupo dopo aver parlato o combattuto contro Priscilla questo significa ed eccoci arrivati al funzionamento del dipinto che in teoria tutti possono entrare e uscire da qualsivoglia frammento del dipinto originale se il dipinto viene originale diviso in dieci parti abbiamo dieci portali diversi che funzionano allo stesso modo in teoria tutti possono entrare e tutti possono uscire da ognuno di quei dieci portali il che finalmente mi fa capire che cazzo ci fanno quei corpi lì nella strada dei sacrifici credo che il dipinto di Ariamis sia andato distrutto e che adesso molti possano entrare e uscire dal dipinto da più portali mentre originariamente ce n'era solo uno ad Anor Londo in quella sorta di caffedrale nella quale lo abbiamo trovato quindi credo proprio che le guardie fossero lì per evitare che venisse frammentato e che quindi i segregati fuggissero chiaramente bisogna capire come scrive Xander come facesse il vecchio a non venire teletrasportato pur tenendo in mano il disegno pur tenendo in mano il dipinto chissà magari è possibile controllare le entrate e le uscite e il vecchio ci attira dentro il dipinto piuttosto che semplicemente porgercelo ma questo non può essere confermato in questo momento potremmo immaginare potremmo interpretare il fatto che da una parte era necessaria una chiave all'epoca di la bambola lord run c'era la bambola insolita oppure il dipinto metti caso ormai non ci sia più quella forma di sigillo in ogni caso non può essere raggiunto se lo si tiene dove non c'è la pittura ossia dal retro dal retro può essere anche questo e ricordo alla chat ho letto la domanda cosa c'entrano i corvi con il dipinto di Ariamis ne abbiamo parlato più volte i corvi ricordano molto le creature corvine mezze antropomorfe chimeriche che abbiamo trovato nel dipinto di Ariamis e crediamo che siano ispirate quantomeno se non proprio fuggite da Ariamis però la cosa più probabile è che siano ispirate a eh ma come fai a ispirarti a una creatura se non la conosci perché non puoi entrare in quel dipinto magari si sono diffusi i frammenti di Ariamis e molti hanno avuto modo di mettere le mani sulle creature appunto di un vecchio dipinto che ora non è esclusiva di Anor Londo se ancora Anor Londo esiste prego ma appunto ti posso tranquillamente aggiungere qui prima ancora di superare i primi passi all'interno di questo gelido nuovo mondo che hai trovato hai scoperto alle tue spalle persino o dietro allo spawn cosa molto interessante in un souls un corvide quindi effettivamente è ci sono è lì è anche dentro questo mondo dipinto un corvide tra l'altro senziente parlante rispondo intanto alla chat intanto Larry non penso che Ariamis sia Ariandel non ho detto questo e anzi ci arrivo adesso ma non lo penso assolutamente sono convinto al 100% secondo me che Ariamis non è Ariandel ma sono solo due dipinti dalla simile natura anche perché se qualcosa cambia nome solitamente cambia nome per davvero Ariamis e Ariandel sono talmente vicini hanno lo stesso prefisso che mi sembrano più appunto due dipinti in linea di continuità ok piuttosto che lo stesso dipinto è chiamato in due modi diversi ok cioè per me Ariamis e Ariandel sono due dipinti che hanno lo stesso prefisso perché sono della stessa natura ovvero entrambi sono portali per un altro mondo per il mondo che raffigurano quindi arriviamo al punto Ariamis pensavo che fosse un pittore io quando abbiamo esplorato per la prima volta il mondo dipinto di Ariamis ho pensato che Ariamis fosse colui che aveva dipinto quel luogo Ariamis è colui che ha creato questo portale ma non è così il mondo dipinto di Ariamis a questo punto è il mondo di Ariamis cioè il mondo che viene raffigurato Ariamis è dove si trova Priscilla e Ariandel è l'evidente soggetto invece di questo nuovo dipinto del quale vediamo semplicemente un frammento io la sto interpretando così chiaro ci sono ovviamente due molto interessante ci sono ci sono due strade ok quindi ciò che penso è che o esista un allievo del pittore originale e che quindi questo pittore di Ariamis abbia insegnato ad altri nei millenni come fare come propagare la stessa arte chiarissima questa cosa esatto è un pensiero estremamente lecito e logico l'ho fatto anch'io spesso oppure un dio ma un dio vero addirittura cioè capisci Gwyn sparava fulmini ok e aveva tante anime si si faceva chiamare dio perché era semplicemente molto forte ok però non aveva la possibilità di creare dei cazzo di mondi dipinti che divenivano portali e fisicamente tangibili questo questo è un potere di un demiurgo noi abbiamo scoperto diverse funzioni e usi dell'anima all'interno dei souls tra cui appunto il creare i costrutti i golem il poterle dividere ovviamente la creazione di un mondo sembra essere una cosa ineffabile ma anche Gwyndolin era in grado di costruire illusioni estremamente veritiere pur se senza anima e per te questa è un'illusione? no i mondi dipinti non sono assolutamente illusioni anzi chiedevo retroattivamente se tu pensassi all'epoca no no non l'ho mai pensato ok ok neanch'io si hai ragione forse il potere che più si avvicina a quello di una divinità alla Loki è effettivamente quello di Gwyndolin ma comunque siamo lontani da creare un dipinto che genere effettivamente una realtà spaziale e addirittura non sappiamo neanche se ne genera una temporale passa il tempo dentro i dipinti? oh questa è una domanda da fare per esempio esatto non lo possiamo sapere esiste un prima e un dopo dentro i dipinti? dal nostro punto di vista sì perché siamo fatti e finiti e veniamo in un mondo da un mondo nel quale il tempo esiste anche se si sta corrompendo sfondando la quarta parete noi siamo giocatori del mondo umano e quindi assolutamente abbiamo la percezione di tempo ma non è assolutamente detto che Ariamis o Ariandel abbiano il tempo e ci sia un giorno e una notte dentro questi mondi potrebbero anche essere delle fotografie interattive di posti immaginati dal pittore io questo non lo posso sapere e anzi potrei dirvi che l'unica supposizione che posso fare nel senso di sì il tempo scorre dentro i dipinti è pensare al fatto che Priscilla sia cresciuta esattamente Priscilla è cresciuta all'interno di questo esilio però la domanda è illecita che cosa accade al tempo e soprattutto le leggi del mondo le leggi del fuoco le regole della stagnazione potrebbero mai raggiungere un mondo interno a un dipinto in teoria dovrebbe essere una sorta di safe haven cioè una cosa assolutamente separata è nata proprio per proteggere i perduti quindi sicuramente abusabile come cassaforte ma non solo come polvere sotto il tappeto però non solo penso proprio al fatto che neanche tanto il dipinto potrebbe avere una sorta di sistema antistagnazione permettetemi il termine quasi parascientifico ma è proprio una questione di la stagnazione anche qui mi passerete il termine sembra essere qualcosa di organico ok cioè che avviene perché nel mondo in cui ci troviamo post fiamma l'oscurità reagisce in quel modo alla sua innaturale chiusura e circoscrizione dall'altra parte la luce dentro il mondo della fiamma è tempo quindi sappiamo benissimo che con il calare della luce anche il tempo si distorce ma in teoria se il mondo dipinto non ha le stesse leggi fisiche perché è un mondo inorganico ok beh l'oscurità non gli fa niente se io prendessi una malattia mortale ok se io prendessi la peste e la portassi in un mondo dei balocchi nel quale le persone non hanno veramente l'aria e l'atmosfera beh quella malattia non si può propagare non può attaccare un mondo che è fittizio in quanto tale è immune alle leggi naturali di quello vero io questo non lo posso sapere eh beh guarda il tuo ragionamento non può non fermarsi qui sì esatto capito e quindi sì sono rifugi sì potrebbero essere io mi aspetto che lo siano safe zone rispetto alla alla stagnazione mi sorprenderebbe quindi non dovremmo trovare neanche convergenza in teoria qui dentro no esatto esatto questi dovrebbero essere i dipinti così come sono stati fatti fine però perché questo prefisso uguale probabilmente perché ti ripeto è la stessa persona e quindi è la sua firma aria o c'è una dinastia e in ogni caso è la loro firma aria i dipinti di questi esseri o di questo essere iniziano tutti per aria e poi c'è il suffisso che invece è dipendente dal soggetto del disegno quindi del miss e potrebbero essercene tanti altri io la sparo per me il pittore si è un boss del gioco è una cosa che ho ripetuto così tante volte in blind ragazzi era si diciamo che trovare aria and el mi ha fatto decisamente pensare ok qui finalmente non solo avremo probabilmente risposte ma cavolo io me lo immagino già capito a livello di game design sto stronzo che crea portali e quindi ti fa cambiare il modo in cui tu ti sposti nell'arena perché è in grado di disegnare e quindi attraverso il disegno spostarti cambiarti la percezione dell'asse X dell'Y e dello Z cioè capite no è un boss che governa uno spazio fittizio nel quale ci può segregare alla pari di come Gwyndolin creava il suo direi decisamente più modesto corridoio infinito no assolutamente infatti dinanzi a un momento nel quale sei a malapena entrato nell'ambientazione questa introduzione è stupenda io non vedevo l'ora perché quante volte te l'ho detto per me Dark Souls 3 è la storia di Priscilla di chi ha fatto il dipinto di Ariamis ma in realtà da quando è iniziato era fondamentalmente guarda questa frase che hai detto io me la ricordo congruente precisa all'inizio di Dark Souls 2 prima che tu potessi affrontare quello che Drangleic ti avrebbe offerto ossia un altro punto di vista tu dicesti ok qui probabilmente sentiremo di nuovo parlare di Gwyndolin di Priscilla troveremo no e qui sta succedendo in effetti sta succedendo ma per me è stata una sorpresa perché in realtà ero talmente tanto distratto tra mille virgolette da quello che comunque di concreto stava presentando il gioco e i guardiani dell'abisso i lord dei tizzoni e il lord delle braci perdonatemi il lord of cinder che dir si voglia i loro tizzoni l'oodleth la grande bugia del vincolo l'oscurità stagnante yowel la chiesa nera c'è tanta roba in più esatto c'è talmente tanta roba che è naturale evoluzione di quanto visto in Dark Souls 1 inteso come evoluzione inedita no ma infatti da Dark Souls 1 per creare cose nuove che hanno senso se collegate a quelle vecchie qui invece c'è un collegamento con una cosa vecchia esatto non è una sua evoluzione ma un suo continuo come abbiamo fatto con Dark Souls 2 ti rivelerò ti discuterò quelle che sono le non da parte mia parliamo prima della generalizzazione massificata del fandom le critiche al progetto Dark Souls 3 e a quel punto sarà interessante sentire cosa ne pensi come abbiamo fatto con Dark Souls 2 ma è ancora presto non posso dirti niente è stato criticato tanto dalla community Dark Souls 3 allora questo è un discorso quasi psicologico rispetto al classico brutto anatroccolo nel senso che Dark Souls 2 è stato talmente tanto schiacciato quando è uscito tutto al più che il resto cioè tra l'altro escono video dopo 5 6 7 anni in cui si discute in defense of Dark Souls 2 cioè maybe I was I was wrong about Dark Souls 2 perché molti dicono effettivamente eravamo talmente incazzati che l'abbiamo veramente troppo schiacciato no? sì 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 perché c'è stata veramente tanta 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 incazzatura all'epoca per tantissime ragioni il level design il world building il fatto che non c'era la scholar of the first scene quindi si chiudeva a tronco senza un finale multiplo insomma era molto complessa la discussione e in generale il motion capture creava animazioni realistiche ma pastose tutti erano molto 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 arrabbiati tranne che per il pvp che era molto più tecnico molto più gradevole e così via Dark Souls 3 è uscito ok c'è una cosa che forse puoi star già iniziando a notare che è sottilissima ma devi affrontare molto più a tempo e molto più in là per poterla discutere seriamente ossia che esiste fortemente la possibilità è quasi la spinta del gioco nei confronti del giocatore di fare ciò che viene chiamato panic roll ossia rollare talmente veloce talmente facile che consuma così poca stamina che molto spesso gli scontri anche con i boss diventa fare bunny hop e questa cosa esatto questa cosa da una parte distrugge il netcode rendendo il pvp un incubo perché immaginati Phantom Range più tanti iframe così veloci non si colpisce mai niente cioè è molto molto poco gradevole questa cosa d'altra parte diventa hai notato vort hai notato quello che hai combattuto fino ad ora molto poco equilibrata la differenza fra armi veloci e armi pesanti perché l'arma pesante contro boss che sono schegge impazzite ti lasciano un po' dire eh ma a sto punto perché non usano long sword no? ecco questo è un principio che magari percepisce alla lontana ma la vera criticità di Dark Souls 3 al di là del fatto che chi lo ha giocato all'epoca senza le basi giapponesi oltre la metà delle cose diceva ma che cazzo c'entra no? perché mancava completamente il contesto di stagnazione delle gerarchie familiari di chi padre di chi chi è figlio di chi chi è madre di chi un casino era veramente un casino all'epoca è stata una battaglia difficilissima scoprire la verità e d'altronde eravamo ingiustamente puniti da un errore che non era nostra responsabilità però la criticità più vocale più feroce un pochino più chiassosa è un'altra ed è in concomitanza con il difendere Dark Souls 2 che invece non era così cosa che in realtà è accordinabile è presto per dirtela ma dinanzi alle cose che hai detto poco fa sarà interessante poi entrare in discussione quando avrai un background molto più completo e vedere cosa esce fuori sarà interessante ok allora ti avviso intanto che la tua linea sta trompettando un po' perché ti sento ogni tanto a scatti come se tu fossi Mettaton però ho capito tutto non ti preoccupare allora attendo di sapere quando potremo parlare di questa cosa ma mi sarà presto chiaro probabilmente come mi è stato chiaro ai tempi di Dark Souls no certo quando con il come si chiama forte ferreo si 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 col forte ferreo qualcosa si è rotto per sempre sicuramente la fisica detto questo detto questo non ho altro da aggiungere a livello di introduzione quindi in realtà oggi ce la caviamo come 40 minuti se non che davvero credetemi se il pittore non dovesse essere mai rivelato per me non sarebbe qualcosa di di felice io credo io credo che debba che miazzacchi me lo debba il pittore figata ok non necessariamente è una forma di boss ok per me si per me è un boss però potrebbe anche non esserlo il punto è io voglio stare al cospetto di questa entità di questo essere che ha questo potere assurdo perché è completamente fuori da qualsiasi altro potere divino che mi è stato raccontato finora c'è davvero per ora per me questo cazzo di pittore è sopra qualunque altra roba ma voi vi rendete conto che cioè in teoria lui si potrebbe dipingere un mondo dove c'è ancora la luce anche se è sparita qui poi è chiaro sarebbe un mondo nel quale è tutto finto però cazzo che potere quando tutto va male ti crei il tuo dipinto e te ne vai magari il pittore è effettivamente o la pittrice è effettivamente dentro un proprio stesso dipinto nel quale si è nascosto cioè è importante questa cosa è un potere della madonna e sembra trascendere le regole del gioco intese in senso pratico tutti si stanno a preoccupare di come effettivamente risolvere il problema della luce che sta svanendo ma questo tizio se ne può fottere questa è una cosa bellissima da poter affrontare vedrai vedrai veramente di brutto vedremo aspetta permettimi di tra virgolette aprire la finestra perché altrimenti rischio di cuocere arrivo e preparati per aprire la mia diretta giusto allora aspetta un secondo giusto 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 allora aspetta che mi vado su sabaku.com eccomi qua mamma mia che criminali già 40 minuti dentro però ragazzi ci sta ci sta proprio allora 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 ok io sono tornato mi darai tu il segnale dammi un secondo a nessuna fretta eccomi ok muta la mia live così non si crea l'inferno vai tranquillo ci sono allora abbiamo creato tra l'altro incredibilmente l'ultimo esatto meraviglioso ragazzi sono pronto le opening sono in sinergica collaborazione ma anche sotto richiesta di francesco le thumbnail da un po' no quindi anche se io so quelle scintille che mi da del suo personaggio visto che lui è blind io no a volte bisogna comunicare a riguardo di questi colpi di scena come la scoperta del dubbio di F io lavoro insieme a degli artisti a volte diversi a volte concentrati come in questo caso Emdi alla creazione di un thumbnail adesso siamo arrivati alla stagione 1 quindi sapete come si gioca è successo con Dark Souls 2 più che in qualunque altra situazione perché quello era veramente l'apoteosi dell'interpretazione del gioco ma caro ragazzone ti mostro il thumbnail finito poi vedremo questo comunque sarà ciò che Ferdi avrà come file eccolo qui adesso lo vedo tra poco eh c'è il solito delay che cazzo è quel coso al centro chi è? c'è un tizio mascherato da un albero è il significato anche lui ma in modo diverso rispetto agli altri che abbiamo visto ci siamo io e te con le nostre armi oh beh F quindi con il libro tu giocatore ma con l'arma di 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 sì 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 no diciamo che MD abbiamo deciso di per ora nei thumbnail utilizzare sì i personaggi ma come noi come accadde per Dark Souls 1 esatto però cos'è? c'è una strana spada che sta combattendo contro P cioè qualcuno è un pov è un pov no? sì 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 e c'è questo sì c'è al posto del riscettacolo del nostro risveglio qui c'è quest'altra cosa vedremo è un tizio lignificato e questo è interessante da dire bravo bravo ma in modo diverso è come se avesse una maschera di lignificazione sembra sì in chat leggo che ci sono no ragazzi ovviamente non guardo la chat di Michele ma che sono no 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 ma tanto stanno ma nessuno sta spoilerando sono tutti qua con le mota ma se anche forse non la leggo non la leggo no però leggo gente che dice io in realtà ho finito il gioco e non ho capito quindi figo in realtà esatto perché vuol dire che la sta nascondendo bene allora I know my shit ragazzi se permettetemi I know my shit è vero sembra una maschera hollow è del tutto probabile è del tutto possibile finire il gioco e non sapere che cos'è questo oh yeah per me è un lignificato ma se dovessi sparartela è lignificato volontariamente lui cioè è talmente tanto ordinata questa lignificazione sulla faccia no è talmente tanto che sembra effettivamente ti vedo emozionato sembra effettivamente sembra effettivamente lignificato volontariamente no la lignificazione che abbiamo visto finora sembra proprio un bozzolo sì il tizio che era sulla seggiola dell'insediamento ai non morti tutto quanto no certo certo esatto invece lui sembra avere un disegno in faccia e quindi un disegno figurato in mente per questa lignificazione è un po' anche Madara Ucia sono d'accordo un po' Tobi esatto ma guardate forse è lui che mi ricorda anche perché c'ha questo collo scuro sembra quasi il colletto alto di Tobi secondo me questa lignificazione è una lignificazione volontaria ok e Michele sta palesemente combattendo contro di lui forse o forse no perché in realtà c'è anche il mondo di Ariandel dietro eh esatto esatto oppure Irithil in prospettiva esatto Neve potrebbe essere la Valle Boreale potrebbe essere il mondo dipinto ma la spada in punto di vista POV di chi sta combattendo contro me contro P non è della creatura o d'oggetto centrale è un'altra scena sono due scene diverse con al centro lui che divide quindi eh sì ci sono io tra l'altro con un buco nel petto quindi ormai full dark con la fiamma spenta e tu al contrario invece iper tizionato quindi credo proprio che F e P saranno un po' Firenze o Sabaku II da quel punto di vista cioè uno full darkness e l'altro full vedremo per ora tu hai 99 vacuità e sei incuriosito in maniera interessante da ciò che è la realtà la verità del buco oscuro ora tu sei con aspetto splendido ma con questa oscurità nel cuore che è affascinante da morire vedremo ok torno torno di là mamma mia mamma mia a questo punto prima è godopoli è da morire la stagione 1 è proprio godopolissima ti dico adesso spengo il monitor per i ragazzi non lo mando ancora a te grazie ragazzi per i segni a terra che sono di una bellezza e romanticismo meravigliosi ma ora è il momento di mettere ah no oh no giusto dimmi tutto sciocco me no assolutamente no allora giusto 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 ti devo fare un discorsetto è molto importante e poi possiamo giocare qua sto tu mandami pure lo schermo se non l'hai già fatto forse l'hai già fatto credo di sì ma non ancora non ancora ma lo facciamo ti spiego allora prego c'è una cosa molto importante che devo dirti e riguarda questa volta solo e direttamente il gameplay ossia ci troviamo dinanzi ad Ariandel una cosa emozionante Ariandel è questo l'accento? sì non Ariandel ok e ti dico come hai notato cosa anche abbastanza eccentrica da parte di From Software e della sua filosofia non si guida il giocatore il giocatore è guidato dall'ambiente da se stesso c'è un messaggio a terra che ti dice solo i più potenti possono proseguire ora siamo hardcore gamer ora è accessibile fin da qui il DLC ora non tornerà indietro però ti dico due cose sono molto importanti la prima è che indipendentemente dal canon che per quanto mi riguarda è assolutamente di cooperativa non ci aiuteremo a vicenda ognuno per conto suo sarà ognuno per conto suo perché devi vivere questo meccanismo di impatto end game quando sei in realtà early sulla tua pelle e decidere da te una cosa la seconda cosa che devo dirti infatti è una necessità che noi giocatori questo forse in generale salvo qualche eccezione ed è una questione di gusto di interpretazione del video gaming però ti dico non avere dubbi non ho dubbi nessuno in nessuna delle due chat sicuramente ha dubbi che con la mia guida e la insistenza di un videogiocatore come te come me ce la si può fare questo DLC lo finisci lo fai e lo completi portando poi il personaggio ad avere ovviamente un incredibile boost ovviamente di overpowering totale su quello che è il resto del non endgame perché ti puoi immaginare cosa si può trovare in questo mondo dipinto essendo endgame ciò nonostante prendi nel tuo cuore la consapevolezza che con la giusta testardaggine e con qualche consiglio lo puoi fare per qualora il caso sia come probabilmente mi immagino possa essere ti rendi conto che decisamente non è il caso accettare di andare via cioè non sentirti sconfitto perché potresti farcela e ce la faremmo fidati lo so prendine atto tutti ne prendano atto lo sanno e ci conoscono ma non per forza devi autodistruggerti per riuscirci ecco tutto qui va bene il mondo è tuo chi è? una casa tutta per me chi è? ah questo è una bellissima idea di game design ossia se tu ricaricando la partita o arrivando non parli con il corvide visto che è alle tue spalle gli fanno dire gli fanno esatto lui parla per farti notare che c'è ok ma noi ci abbiamo già parlato esatto esatto beh il mondo è tuo sei nel mondo dipinto no no il mondo è del pittore non è mio bastardo chi cazzo sei e quando cazzo ti uccido ah ah ancora questo luogo se più che qualcuno ha non è ancora io credo sia diverso ma qui dobbiamo stare ci sono dei fuochi là sopra maestro si ci sono delle fiammelle sembrano le stesse della mappa di kale si è vero forse sono fuochi fatui no spero non sbuchino le renne ragazzi abbiamo un oggetto si comincia oddio c'è qualcuno sta tirando delle lance andiamo 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 è un soldato semplice credo con un'armatura che non riconosco è un non morto vuoto direi a giudicare dalle fattezze bravo si effettivamente si un soldato eh è dire che invece nel dipinto di ariamis avevamo principalmente dannati vestiti di stracci quindi è sicuramente un posto diverso tra l'altro questo non sembra proprio un corridoio è un'area aperta facile perdervi si eh ma infatti io sto andando muro muro amico mio perché oddio quello è più grosso oh sputa ok bella bella lì si hanno questo elmo proprio a preservativo benissimo e ora ora si continua sento sento una bestia strana è lì è lì è lì è lì che cos'è un ragno mamma mia mi sento nelle catacombe ho il culo strettissimo è un non è un ragno è una mosca credo sia una mosca una vespa qui mi serve mio affidato arco è una mosca sì non ti avvicinare non ti avvicinare oddio 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 non ti avvicinare non ti avvicinare un po' di discolame infatti a proposito di discolame adesso ne parliamo di loro ok e anche qui palesemente l'ennesima chimera guardala ha le braccia e ha anche proprio una bocca da umano però è una mezza mosca di cosa si stava cibando era ralentiato a cibarsi di qualcosa forse anime o cadaveri cadaveri eh sì gemma velenosa questa non sarebbe affatto male per esempio per delle dual così veloci già sì questo è proprio un mezzo è un mezzo uomo mezza mosca e ha in testa in realtà non ha gli occhi di una mosca sono due sì no che si sono due sì 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 sembravano più di due a un certo punto ma no quindi come ci sono i mezzi corvi ad ariamis ad ariandella abbiamo eh allora in teoria qui è finito tutto però cioè ho esplorato tutto di questa piccola parte posso tornare indietro qui c'era il cadavere iniziale e c'è un altro di loro facciamo muro muro qui e da dove sono venuto c'è la mosca morta quindi posso andare di qua sono due sono due sono due sono due sono tanti tanti e forti aggressivi oh cazzo quanti sono oh cazzo quanti sono ritirata 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 vediamo quanto aggrano ok non così tanto oddio invece sì proprio così tanto ah non l'interrapto cazzo questo è un problema morirò non se me la gioco bene però sto panicrollando ma cosa succede alla mia stamina non era di più una volta eh forse hai livellato ancora vitalità e quindi senti un dislivello sì forse sì forse questo è il problema ok dai uno l'abbiamo quasi ucciso in realtà una volta ucciso il primo ma stanno ressando gli altri no non direi sono semplicemente tanti eh però questo c'è lo scudo ma mi ammazzano arriva la lancia devo di nuovo bere ok beh immagino che Saito ne dropperà qualcuno no poi l'errore di traduzione lo affronteremo ho sbagliato tasto non è morto eh ragazzi ne ho aggrati troppi eh ce n'erano troppi a a tradimento erano una ho cercato di fare piano ma sono ancora tre e ho una estus provo a giocarmela ma con le discolame sperando che almeno le discolame li stunnino non li stunnano neanche le discolame non so che riesci prendere ok oh no 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 eh sfruttando lui che va e viene ma guardala quanto mi fanno le lame cioè le lance ok via via ok top bella lì intanto sono immune ok cazzo 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 mi arriva la fiamma addosso ok via sì c'è l'ho backstable bella lì adesso andiamo da lui via adesso mi arriva una lancia addosso eccola qua via 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 ok perfetto non è rimasto uno posso ovviamente fare perri adesso e fammelo sto a fondo con sta cazzo di lancio sai che ti giro intorno infatti casegnantura guarda che non ti gira il basso ok bello questo bravissimo ah no la discolame anche qui mi sembra ideale per questo per questo scontro veloce backstabbo sì 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 mi piace sono vivo ragazzi sono vivo cioè morirò tra 5 minuti però sono vivo intanto sei sopravvissuto eh però mi considero quanto è difficile combattere cercando di non inquadrarli troppo per non rischiare di farglieli vedere non posso fare altro porca miseria costringendomi a riaffrontare questa wave ma con maggiore cognizione di causa dai andiamo 9 estus e attenzione alla ronda adesso hai già una consapevolezza diversa e le discolame sembrano davvero ideali allora vediamo un attimo li vedo ok ne arriva solo uno in teoria ok ora ci mi curo era solo per capire quanto sono parriabili e ricordati che avendo degli scudi se gli rompi la guardia è un riposte certo certo no gli scolame sono decisamente la risposta sono perfette sono perfette per il lavoro che dobbiamo fare qui dobbiamo essere degli assassini qui F evolverà proprio come assassino deve sconfiggere la truppa un soldato per volta ah ne ho presi due ho fatto anche l'altro ah pensavo di farcela poi la lancia è fastidiosa ok tu sei mio mio ha droppato qualcosa molto bene mio ottimo il drop in mappe nuove è sempre emozionante c'è qualcuno che tira le lancia mi devo sprostare lo sapevo io vabbè un danno si può prendere via prendiamo frammento di tita buono peccato che non sia roba di lore no target no target quasi no quello era sarebbe partito ok ok ho giocato con lui bene molto bene ho giocato con lui è lui è lui la mia preda non io la sua molto bene molto bene molto bene otto estus ci siamo fatti la stessa ronda che prima ci ha tritato tutte le estus ah no aspetta ci sono anche loro eh non dovevo attaccargli lo scudo mio no non mio sì mio totalmente mio è arrivato anche l'amico vai vai tu vai non ti preoccupare tu vai tu vai che trovi il tesoro vai vai comunque ragazzi vi leggo discutere ricordatevi che comunque questo dirsi non è nascosto segreto con chissà quale strategia da veterano per essere raggiunto prima del dovuto cioè questo arrivi alla cattedrale delle profondità e te lo trovi davanti quello che trova è suo ma lo usa come gli pare io non lo sto aiutando per questo se lo aiutassi le cose cambierebbero ma se è da solo cavoli suoi per carità di dio è una blind normalissima se poi noi abbiamo giocato senza dire sì è un altro discorso che cazzo è che cazzo è sono morto no ma c'era un oggetto non è caduto una piccola frana vabbè dovrò viaggiare al falò per tornare muschio blu di ghiaccio leggiamolo e forse il corpo era quello forse era quello davvero hai ragione muschio che emette luce e calore ferma l'avanzata del gelo e cura dal congelamento il gelo avvolge il corpo congelandolo riducendolo a salute e assorbendo dei danni rallentando il recupero dell'energia poi le armi infuse con il gelo sono molto rare e provengono principalmente dalla valle boreale sei della valle boreale è una gran bella arma fiducia richiesto dopo ok e anche qui ragazzi il muro muro regna quindi andiamo con questo cazzo oh no stanno chiamando gli altri vero è certo parlando di truppe ci sono forse anche i branchi no qui non mi servono le discolame qua mi serve l'arma lunga secondo me mamma mia quanti siete ok 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 via il target via il target sono troppo veloci se mi tracco sono infinita adesso ok perfetto basta 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 ok vado mio ok 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 mio totalmente mio sto lupo ok totalmente mio anche io mio 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 non so quanto tolgono mi hanno attaccato alle spalle mi hanno fregato a me continua continua la vitalità è importante accidenti vai 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 così mio questo era grande mio ok hai mai visto qualcosa di veramente veloce lupo di merda io sono veloce storto ok ho già il cuore in gola fantastico fantastico così c'è qualcuno che piange uh hai sentito anche il pianto si oh dio 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 sto cercando di non bracciarmi ma ho ancora la vitalità 20 e mi sa che la terrò a lungo perché voglio diventare anche piromante dobbiamo giocare senza HP ragazzi e vorrei utilizzare la braccia come cura come cura non come inizio dobbiamo essere più brutali ma non troppo altrimenti ci accerchiano io non penso di poter parlare con questa cosa ragazzi non penso proprio eh secondo me guarda poi tra l'altro ma sono è lignificata come quelli del del dei muralti di l'ho è però in realtà il non morto lignificato tendenzialmente è una creatura ormai ben oltre il morto è vero hai ragione invece lei si muove quindi probabilmente non è un non morto lignificato ma porca di quella puttana ste cazzo di fiamme sono sono demoniache mi stanno millando tutta la vita non è questo il modo di affrontarla eh sei contro dei branchi che hanno intelligenze artificiali per cerchiare e attaccare alle spalle eh eh ma i lupi erano gestibili ste fiamme io non mi posso ok ho capito come devo fare forse devo fare tocca e fuga ma si è ricaricata ma che cazzo vuol dire ma no è un'altra mio dio mio dio quante ne ho grate adesso mamma mia le luci di natale ma che è pure i lupi ho preso porca di quella puttana guarda guarda come va le spalle ok 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 eh il problema è che ho grato troppa roba se non mi allontano dal range della riva di fuoco è finita ok ok si si venite 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 ah bravi e questo dovrebbe spaventarmi e questo dovrebbe oh dio alle spalle alle spalle alle spalle oddio quanti siete si si ancora ce n'è ancora uno ancora due mio tre eh era inevitabile questo dovrebbe mio no ho finito la stamina mamma mia quant'è tosta quant'è tosta mio ok è finita ragazzi perchè ho già tre estus e lì c'è alberopoli però maybe tortisio will help me yes tortisio modo chissà a che cosa si agganciano quei fuochi come target se ci fosse il modo di distrarli sembrerebbero attaccarsi a me aspetta uso quelle pesanti a sto punto possono camminare il mio piano d'attacco è fallito tutto insieme e piangono loro col cazzo che mi avvicino ma col cazzo proprio ma non so tutte le frecce arrivano arrivano i fogherelli arrivano vedo dove sto andando mi inseguono ai evidentemente qualcosa che a loro interessa le anime può essere si si ok dai manca un colpo no no ce n'erano ancora vaffanculo non morirò no 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 col cazzo che muoio col cazzo che muoio hai capito ma che cazzo ma vi fermate o no eh raga ultima estus se riesci a vincere però potrei lutare che è la cosa che conta di più dinanzi a queste sfide ultima estus qui c'è un lut moneta arroginita devo trovare un faloe alla svelta forse la brace forse si attaccano al calore della brace sono braciato e questo è il problema lanciano delle fiammelle quindi forse non è il calore che cercano cosa è che li attira vedrai il level design ti potrà aiutare a capirlo gli alberi in teoria altri alberi altri rami beh probabilmente no tu non ne hai va bene che il segno oscuro crea delle radici ma insomma quello è un po' troppo cosa cazzo c'è la sopra porca di quella puttana un'altra mosca che cos'è che cos'è ma da dove cazzo esci ma da dove cazzo esci ma ste stronzi le odio altro che che sti soldati lupi le sostre stronze ignobili mi hanno mi hanno devastato finito le espus se non capisco il loro segreto è finita se non capisco il loro segreto è finita è inutile andare avanti devo capire come affrontarle mi stanno dominando perché non mi prendono adesso da qua diciamo topografico high ground oddio oddio però mi serve essere rapido ce l'ho un blow rapidino così cosa sta facendo sta dando fuoco all'albero era distratta dall'albero tipo ah no ora è arrivata anche l'amica porca di quella puttana aspetta complesso senza capire come non è semplice per niente per niente semplice think side of think mi scrivono in chat hai visto invincible o invincible o win the pool ah anche non sono in dual perché sono stronzo e qui mi becco altre botte epa ah mi stava pure buttando il gelo addosso beh praticamente molto credo siano le anime a sto punto ah potremmo provare il teschio esca il teschio esca sono anime eh appunto se fosse così vediamo subito vai fammi vedere dove arrivano no mi arrivano sempre addosso non è non sono anime e invece no e invece no perché stanno colpendo effettivamente a terra cazzo il lupo quindi sono attratte dalle anime sono stavano proprio attaccando il teschio la esca si eh si eh eh però non ne ho abbastanza ne ho tre ma eh eh niente in realtà ragazzi in parte volevo morire avevo troppe poche estus e devo capire bene come affrontare queste donne alberto che i lupi si fanno allora abbiamo un indizio intanto sono attratte dalle anime e quella è una però non ci faccio niente si può provare ad attaccarle con il fuoco si può provare a distrarle e fargli delle combo una volta tolti i lupi ma non è semplice assolutamente non è semplice no ma no ragazzi oddio perché c'è ah però qui l'albero non è non si muove è fermo non mi ero accorto che erano donne ok loro sono una cazzata adesso loro sono la parte easy sono la easy mod ah vaffanculo devo stare solo zitto bravo adesso muori grazie non arriva l'amico ah eccolo qua lo stream sembra un po' di qualità inferiore perché la neve ah ok sono arrivati in due la neve ammazza il bitrate si fanno serenamente la neve serenamente the snow no non li devo sottovalutare o morirò non li devo sottovalutare o morirò e non devo sprecare estus contro questi coglioni eh vabbè invece voglio sprecare estus contro questi coglioni ecco qua aaaah quanto avevo 16k vabbè che qua si fa farmano ma si qui si diciamo che qui non è proprio un farmopoli it's a non issue esatto anzi anzi semmai fai felici i ragazzi che sono preoccupati perché 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 il DRC è talmente ricco di risorse che magari qualcuno ah ce ne è stato devo droppare no nel senso sono preoccupati che tu diventa troppo diventi troppo forte no però non preoccupare ok 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 no worries via oh no l'albero arrivano due no bravissimo ho fatto tecnica Dark Souls 2 proprio gli ho fatto finire l'attacco ottimo un altro dovrebbe scendere da qua sopra eccolo là oi frate ok scendi scendi oh no glicciatissimo no glicciatissimo ok aspetta che arriva il backstab della fede eccolo qua adesso faccio contento anche te non ti preoccupare ok arrivano insieme vabbè se anche è mio ma non sembrano arrivare insieme ma questo non c'ha lo scudo posso fare così ok ah ma lì c'è una signorina però è ferma anche lei ok circunnavigato proprio se hai zero anime le fiamme ti inseguono ugualmente perché hai la tua adesso qua frana tutto posso farci qualcosa qui no però posso studiarla posso attaccarla col fuoco sì ma con cosa non ho fuoco ecco qua cade tutto adesso e i lupi mi fanno ciao i lupi vanno fatti con questa arma qua circunnavigato pululino di gruppo no 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 ho smiscliccato volevo bracciarmi porca di quella puttana ok mamma mia mamma mia mamma mia uh il branco è brutto eh eh sì ma più che altro sono stato sfortunato perché non ho interruttato un cazzo di nessuno ok posto no 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 arma sbagliata ok porca di quella troia mio lui è mio ok mio uno alla volta one at a time ah cazzo lui è rimasto in vita uno scudo è il prossimo è il prossimo è mio mio dai anche lui mio no ce n'è un altro no 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 vabbè questo lo facciamo non è vero perché non avevo stamina devo guardarla più spesso sono un nabbo via 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 troppe estus su questo branco troppe estus ma è più grande di quello di prima mi sto aggrando di più rispetto all'altra volta mi sto muovendo troppo loro hanno un pattern comprensibile ma è molto ingannevole perché si fermano a volte a osservarti ok bella ottimo interrupt di culo qui qui sono stato fortunato invece no è l'altro dietro di cui mi devo preoccupare eccoli eccoli stanno urlando ancora è buono ancora ancora andiamoci aggressivi su di lui va bene fuck ok mio via mio bella lì però ancora altri due mamma mia li ho aggrati quelli tutta la mappa ho aggrato questi cazzo i lupi tre di nuovo ok stanno continuando a ululare quindi li sto continuando a portare dove non devo buono ce n'è un altro che sta morendo ce n'è un altro che sta morendo è buono fino a un certo punto sto a tre estus bene si bravissimo bella credo di averlo preso spero di si se non l'ho preso piango eh non l'ho preso no mio a posto ok bella no perfetto muori con una pugnalata adesso no ok ho ammazzato ho estinto i lupi ad Ariandel eh però allora rifletti sono distratte dalle anime e sono alberi comunque in teoria vanno a fuoco in teoria vanno a fuoco eh ma che cosa ho di fuoco io cazzo epiromanzie aspetta forse le resine resina per non hai ancora comprato la torcia forse la torcia l'ho presa alla fine no e allora puoi provare il potenziamento di fuoco si ma non credo che potrei farlo sull'arma della legione no infatti infatti ho preso le discolane dovrei avere le discolane infatti ah è nelle armi la torcia giusto ci avete ragione che stupida allora ce l'ho ah ce l'hai nice ce l'ho ce l'ho si forse il fuoco della torcia allora ma non mi ricordavo sta cosa che la torcia fosse un'arma oh yes lo vai qui però l'ho messa nella mano sbagliata ah beh sti cazzi vediamo le distraggo praticamente li stordisci e mentre sono storditi puoi attaccarle non in questa mano decisamente sta attaccando porca di quella puttana magari ci dovevo pensare prima ho sbagliato completamente la mano di equip non sto andando a canica t e le fiamme ci arrivano ne ho preso altri ultimi secondo me no allora buoni management ok qua torcia fantastico adesso torcia in code sta mano perfetto e poi andiamo in dual modo e poi andiamo in dual modo esatto esatto quindi facciamo dai zitta così la farò ok eh però ho già evocato devo farlo prima che evochi via adesso ah ok ha fatto la sbrettatina la ragazza bravissima eh no eh no ho aggrado troppo ho aggrado tutto il natale ho aggrado ho aggrado tutto il natale mannaggia che ansia che mi mettono ste cose allora questo è il nemico per ora perché lupi si fanno con meno estus magari ma si fanno ah qui tocca correre non penso di avere più aggro eh ok potrei provare però sono due ok dai dai attacchiamo 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 ancora ancora torcia ok eh vanno fatte così finchè non arrivano le altre finchè non arrivano le fiamme di di quelle dietro e finchè non spariscono tutte ok più che rollare bisogna correre per evitare le fiamme ok tocca a quella dietro prima che evochi perfetto che la cosa buona è che porca troia la cosa buona è che fanno rumore infatti stavo per dire me ne devo andare però la torcia mi piace poco facciamo così se no che cazzo le usiamo a fare le resi cioè se no che cazzo le droppiamo a fare cioè se no finisce che veramente devo usare un pato si si è un classico no per cercare di farla una cosa senza usare consumabili eh però già è finito già è finito ah hai usato quella veloce ah e ti ricordi c'è quello che ti fa il buff in combat come se fosse una combo e poi il vero buff no a me serve questa esatto eh esatto visto come è più lento si 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 l'altro serve per farlo durante una combo è una cosa molto figa però non è per questo genere di strategia no adesso no decisamente questo yes go 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 bravo no 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 eh si guardate che ho aggrato anche i lupi che stavano qua sopra perché prima c'erano dei lupi ora non ci sono più ragazzi le discolame sono l'arma ok dobbiamo prenderle da dì piangi piangi disco baby disco proprio adesso mi arrivano le fiamme addosso ma possiamo doggiarle in serenità ho detto in serenità ok ok e modo da te no finito il buff finito il buff finito il buff finito il buff beh ora possiamo fare under e under in realtà eh ora possiamo fare sono talmente tante poche che posso fare un po' di discolame bene poi tiro fuori la torcia poi arrivato di disco e le ammazzo apposta frammento grande di tita si gode eh si hai visto oh fuck moscopoli beh si si ho visto maestro qui però abbiamo un problema oh bene bene guardati intorno esplora ora che hai distrutto gli alberi non perdere l'occasione perché no no assolutamente ma non sono ancora distrutto ah ok ok vaffanculo c'è un lupo vieni vieni chiama il branco andiamo andiamo qua andiamo qua dove non ci disturba nessuno andiamo qua dove non ci disturba nessuno col cazzo che vi faccio fare la lotta mentre mi inseguono le fiamme venite qui e lottate da guerrieri non da codardi ah 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 dove andate dove andate detto da guerrieri non da codardi eh lupi del cazzo mamma mia che lupo codardo che eri oh tu sei un po' più guerriero vieni vieni bravo via ok che toste arrivano quelle dell'amica via toccate il fuga toccate il fuga mia ancora un po' posso via 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 toccata un fuga toccata un fuga ok top andiamo ho sbagliato pensavo di averle equipaggiato vabbè a sto punto crepa no 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 mamma mia stavo per fare la gridata definitiva e morire come un coglione l'avidità la terribile avidità sì vabbè mo è solo una però mo suka appena mi avvicino e smette di evocare le sue merde ma come prende più fuoco non va più di moda prendere fuoco ah ok a un cool town e di stan ho visto ben morta porca di quella puttana ok eschio esca grazie allora maestro io qui sto esplorando questa zona che ora si è liberata non c'è un cazzo di niente però è anche vero che qui c'è tutta quanta una valle incredibile beh scegli tu hai moscopoli e la valle incredibile io continuerei per moscopoli ci sta era un dito in culo e secondo me c'è un falò nelle vicinanze sono molto contento di questa scelta c'hai capito secondo me qui c'è qualcosa abbiamo appena superato una roba difficilissima e non voglio bere non sembra esserci niente ragazzi poi magari mi c'è effetto dell'errabondo ma non mi sembra l'ultimo sbloombiano si è ucciso per darmi le estus no non voglio bere ragazzi no berrò quando sto per morire madonna che bella quest'aria ragazzi la più bella finora wow vieni vieni ah ricordati che anche gli archi hanno le weapon art eh ah si? eh si che succede? proviamo le due o non succede niente? fallo senza la prima persona e prova a sparare le frecce tieni premuto le due e lanci le frecce ah gaff eh un po' meno senza mira di gaff ok che figo stanno arrivando? no no non possono le snipero volentieri gli finisce l'aggro lì le mie frecce arrivano ragazzi questa non è codardia questa strategia ovvio dopo così tanti danni presi stai sopravvivendo a qualcosa di pazzesco eh qui purtroppo la weapon art non paga niente no anche perché a seconda me l'arco è diversa ovviamente non sto riuscendo a mirare benissimo purtroppo sto sprecando un sacco di frecce beh una cosa che puoi fare è ricordarti che esiste anche l'attacco in roll qui con l'arco Dark Souls 3 è molto dinamico quindi puoi provare cioè l'attacco in roll con l'arco è molto veloce quindi puoi combattere con l'arco volendo cosa che fa? vediamo ah beh no forse questo è un arco non so che arco hai eh no mi sa che questo spara e basta ok 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 questo è grosso hai un arco gigante ok basta danneggiarle ste robe così almeno quando le becco perché non voglio sprecare tutte le frecce che ho al contrario mi servono per scautare proprio come in questi casi stanno arrivando ok perfetto era proprio la situazione che volevo creare loro che vengono buonasciattati dal primo attacco ti meriti una simpata di già oh 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 che cazzo mi sono fatto male ok ho avuto paurissima arma congelata non posso leggerla ora eh ho troppa paura andiamo piano ragazzi no maledetta stronza credo ce ne sia un'altra no però non ne sento il rumore quindi in teoria no invece si sono due si 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 sono tante non due sono tante di nuovo porco il cazzo porco il cazzo sono almeno si eccole lì eccole lì e no e qui va fatto dello strategio ok finchè fai così a me sta anche bene e sei anche quasi simpatica perchè adesso tu crepi mi fai il favore di crepare grazie mille e queste non sembrano per ora fare le luci di natale perchè non le hanno addosso proprio però allora vanno affrontate non da qui ma da sopra insomma dimmi che c'è un falolla no non ci sta un cazzo allora ok via 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 non tutte si stanno animando dai non tutte si stanno animando lei è animata ma le altre no adesso ho capito perchè a volte non capiscono neanche loro voleva voleva che lo danneggiassi per avere gli stessi hp che bello così si fa bello grande grande stupendo stupendo bellissimo pvp bella anche la vendetta è stata splendida ok abbiamo già 8k di nuovo visto? si eccone un'altra oddio lo sapevo che sarebbe arrivato un attacco milì non chiedetemi perchè l'ho capito da come si è mossa che avrebbe fatto un attacco milì che dovevo schivare o perchè non sono in blind no 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 che è no non adesso non adesso no l1 r1 l1 r1 l1 r1 mamma mia sono vivo mamma mia sono vivo sei vivo sei vivo non l'ho proprio vista non l'ho vista arrivare invece la grab quindi sono sono blind ok dimmi che ho una cura qua dentro magari un una birra cioè una sorta di estus o una brace la uso no perchè sono già abbracciato sei già abbracciato non è come l'umanità no 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 decotti ragazzi non hai decotti? cavolo no vivrò 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 cazzo ma c'è una scheggia di estus qua era importantissimo utilizzarla dimmi che c'è un decotto qui dai ecco bomba nera tipico decotto mangia la scheggia di estus non penso si possa la pillolina per i danni fuoco no no purtroppo qui non ci sono le gemme vitali qua la cura è molto tecnica e mo' è dura e guarda è tosta sei nel terrore e nel safe play devo trovare un falò al più presto ok questa non si muove credo a meno che non mi fai il tradimento è qui per la zona lupi secondo me è lupevole la situa qui ho un miracolo e non posso usarlo non ho abbastanza fede ragazzi mettere l'anello ma non è una questione ragazzi di perdere le anime è una questione che non voglio morire no esatto qui le anime sono molto meno importanti del percorso fatto il miracolo curativo aspetta no ho palliativo eh ma tanto la devo armonizzare non ce l'ho ah no aspetta ce l'ho qui cura minore aspetta forse il talismano lo posso usare però non posso usare il talismano quindi niente ma tu non hai armonizzata l'incantismo una cura ce l'ho no cura minore ci sono anche weapon art che curano ma non insomma ora weapon art della campana da chierico proviamo ah si te la stanno esatto te la stanno consigliando ci sta mi sa che non hai le caratteristiche per farla partire suonato una campana ragazzi e basta me la posso ficcare nel culo adesso ragazzi e l'ho fatto eh ragazzi mi è piaciuto anche suona suona mi scrivo sapete cosa posso fare un anello lo posso mettere ma vi dico io quale quale devo rinunciare alla mia bellezza per aumentare ripristinare i pv con gli attacchi successivi oh risk and reward disco lame it's kill or be killed vai vai voglio proprio vederti ok qui o c'è un boss no nessuno letteralmente nel senso che non c'è un cazzo c'è un oggetto sopra ma è sopra si no puede raggiungerlo una caverna nel chilling esatto forse posso raggiungerla da qui oddio c'è un un castello mi sto avvicinando un castello una chiesa non so però potremmo andare qua sopra a prendere l'oggetto no eh no qui c'è solo la humanity's end della sigla ma non oggetto alcuno non vedo e quindi in teoria per prendere guarda dimmi no nel senso non cedere guardati bene intorno goditi il momento ah no 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 ma credimi prima di andarmene visto che spero di trovare una benedizione divina piuttosto mi fico quei coltelli nelle palle non è quello il punto cioè io quell'oggetto devo prenderlo beh no dai questo oggetto è intuibile nel senso che alla fine avevi un bivio magari uno shortcut però chissà non voglio cadere capisci no 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 basta che inciampi e muori cioè la mia paura è proprio quella di cadere quindi sta andando bene sta andando molto bene eh eh ufalo dio mio caduta morbida for the win si 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 mi seguo ragazzi si mi seguo si mi seguo 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 che poesia ragazzi è per questo content che vi subate mi seguo mi seguo mi seguo esatto ok ok ah ma si poteva arrivare anche senza rischiare la vita si ma vaffanculo ok 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 adesso posso fare il pazzo spericolato madonna mia ragazzi e poi c'è tutta la parte invece che non abbiamo fatto a lupopoli si che però vabbè potrebbe essere un'altra mappa potrebbe essere un ma qui non ci si arriva però potrebbe cosa proprio la parte di lupopoli cioè vado a lupopoli andando indietro e ritorno comunque qui andiamoci lasciamo là tanto abbiamo il falo qui cazzo ce ne fotte è il modo giusto di pensare hai ragione grazie maestro di approvarmi con così tanto affetto in teoria se faccio il giro al contrario ci arrivo probabilmente ragazzi morirò eh perché i lupi mi faranno il sexo ma voglio solo capire se c'è un conferma del teoria cercherò solo di capire se posso fare il giro degli oggetti li prenderei oh che c'è il papà il papà il papà si era proprio ah ma tu stai proprio riusciando in un'area che non hai visto ah va bene volevo io pensavo riusciare verso l'area che non hai visto no no volevo capire volevo capire se si può fare il giro ma è veramente tanto estesa oh mio cos'è quello ok ok decisamente vabbè un attimo eh un attimino chi è causa del suo hollow vincoli se stesso un attimino un attimino un attimino che ci ragiono ti ho detto aspetta un secondo non so manco dove cazzo sono un attimino che ci ragiono Franco è arrabbiatissimo wolfnado esatto esatto cazzo ho fatto vabbè posso perriarlo lui secondo te wanna try ma è troppo grosso no non è troppo grosso non credo che boia sono forti eh ok adesso ragazzi cambio di piano devo rushare per riprendere queste anime non le voglio perdere ha senso il grande lupo è cascato davvero com'è cascato non ci credo no credo che abbia semplicemente perso aggro si dai anche perché credo sia un mostro unico altrimenti me lo sono perso si mi ha spaccato proprio ok no 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 ecco semplicemente semplicemente ok 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 l'ho disengaged diciamo non può cascare dici dobbiamo rifare il rascino adesso monte rushmore ah invisibilità quando serve non l'ho eh lo so adesso arriva papà lupo eccolo qua noi lo skippiamo come dei grandi come dei grandi come dei grandi si si come dei grandissimi e di là c'è Arthas durante il Luca Comics penso che per riarlo sia la scelta più idiota che io potessi fare nella storia della mia vita ah bravissimo sarebbe che sta bene? si che si può io non voglio rascare voglio pulire tutto di nuovo nella prossima puntata di Saido che fa il Dark Souls 2 scudo in faccia no non è vero i strame non possono essere interrattate bastardo maledetto no perché ho fatto sta cosa? I am speed I am speed I am speed ti apro coglione cosa ho troppato? frammento di tita ok ok facciamocela all'indietro gli popoli a sto punto vai cominciamo dal boss vieni lupo Ido ehi non viene più? va via ok non è più interessato eh va bene ehi 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 disputo a palombella lupo al fiotto dai e se vieni è arrabbiato il lupo bravo e adesso? e adesso che facciamo? eh? ci prendiamo la full combo? ecco qua e uno prossimo prossimo lupo guacchiotto dai 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 bimbo dai dai vieni qua dai 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 che ce la fai eh se non ti muovi ok dai dai il prossimo tu? oh dai c'è un po' di smash eccoci qua e adesso full combo per il ragazzo eccola qui full combo per il ragazzo benissimo benissimo fantastico che oggetto ragazzi? non sto capendo cosa ho perso che oggetto ho perso? eccolo qua il cucciolino bravissimo bravo su precipizio c'è un oggetto non lo vedo maestro mi dicono che sul precipizio c'è un oggetto ma io non lo vedo io non so mi fiderei di loro adesso io l'item placement di Ariandel non ce l'ho proprio freschissimo in testa quindi non basarti sulla veteranità adesso la veterazione aspetta ma lì c'è un altro soldato passa sento un po' di lupazione di fianco all'albero dicono ok tanto mi dodge bravissimo dai ce l'hai ce l'hai ce l'hai bravissimo ah cazzo ho doggiato il male oddio 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 mi stavo andando off guard io volevano il mio palle e lo stavano per ottenere no ragazzi non ho capito dov'è ma mi sta stressando troppo questa cosa è l'oggetto quindi per ora non ci guardo e dopo lo capirò mi sta distraendo da quello che devo fare sopravvivere esatto l'oggetto non scappa la mia vita si se non sto attento ecco appunto mamma se l'ho rischiata ok ok calma e sangue freddo e adesso guardo dove è l'oggetto così non mi prende l'ansia di vivere eccolo ecco grande anima di indiandante ignoro fantastico allora qui abbiamo un altro soldato ma è accanto a un lupo prendiamo prima il lupo proprietario non fiata molto bene no le discolame non vanno bene per affrontarli molto meglio le spade c'è molto meglio questa spada facciamo una braciatina qui conviene in teoria qui adesso ho pulito un bel po' ho fatto veramente tanti lupi no ce ne sono ancora tanti potrei circunnavigare l'area sento lupi non so da dove arriva e a te d'ammazzo prima che arrivano gli amici sono arrivati due ok miei 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 due morti morto anche tu vieni bella tutti e tre uccisi posto the chosen where cazzo sto andando c'era da lo so mio dio lupi anche sento qualcosa camminare correre alberi mamma mia fin troppo fin troppo baldanzosa la mia prestazione qua dobbiamo passare alle discolame dobbiamo passare alle discolame dobbiamo passare alle discolame ok attenzione al congelamento ok lui è morto benissimo ok loro sputano e basta fortunatamente non hanno i gingilli del cazzo però comunque devo stare molto oddio quella era la grab mi sa che sono due attaccate l'una all'altra mannaggia alla miseria non sarà semplice no cado di sotto sono attaccate le stronze finchè sono attaccate è un disastro vediamo eh niente aspetta via 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 che questa mi grabba non sono riuscito a tirarle la scoppola pazza focussiamone una ok però aspetta qui conviene prendere lei ok e poi fare così via 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 il congelamento il congelamento è pericoloso qui di frecce sono troppo vicine sono fastidiosissime probabilmente non avrebbero dovuto essere hai ancora bombe nere ne ho ma le uso quando proprio sto morendo sono un minuto dal sono un secondo dal falò ma se mi colpiscono muoiono lì uso le bombe ok 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 tanto qui tengo sottotira tengo sottotira eh vabbè domani tengo sottotiro quella col con la vita più bassa loro non hanno attacchi homing me la faccio tranquilla e non spreco estus ne ho ancora tre e ci devo stare bello sereno per ora comunque e sicuramente arriveranno degli spike di difficoltà meglio delle catacombe però anche io sono un player diverso no no ma le catacombe per carità ma che cazzo ciao ok ora abbiamo l'armato a questo punto andiamo dritti fino a qua madonna regine 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 dello svapo assolutamente e io con sta lancia mi son giocato due estus molto male ma magari ci stiamo avvicinando a un punto stai effettivamente spostandoti all'interno di un ambiente che deve finire pericoloso è un eufemismo no devi venire qua devi venire qua a lottare senza che lanci la tua merda mannaggia smettila di lanciar roba bastardo mi ha preso mamma mia che pericoloso sto gauntlet ho finito le estus si proteggono davanti a quella stronza mamma mia questa ambientazione è pazzesca pazzesca dai dai devo prendere il backstabber dai questo è il punto e facciamolo dai eccolo qua no porca di quella buttana mi è partito eh ora siamo nella merda ora siamo nella merda ora è il momento è arrivato qui però almeno ah sono due adesso molto bene non ho frecce di fuoco ragazzi le avrei usate da 40 minuti eh ma ora è un casino loro si proteggono dalla tipa che sbretta io non mi posso avvicinare che mi becco il dot bel casino adesso il problema è lei non sono loro loro si dovrebbero avvicinare cosa che in realtà stanno facendo tipo già lui adesso sarebbe fattibile ma credo che il suo fiato arrivi ancora ok ora ce l'ho ora ce l'ho eh decido invece di saltare come un cretino ecco e di farmi prendere dal fiato come un fenomeno dai dai ancora ancora queste lanci dai che tra pochino uscite dal range di questo fiato che arriva fino alla mappa fuori da ariami inizio da ariande quello che è eccoci morto come un coglione sapevo non dovevo però cavolo cioè ti sei buttato in una mappa qui la lupopoli che si è rivelata a nascondere cose terribili cavalieri colossali giavellotti dal cielo eh assolutamente però a sto punto mi è venuta voglia di andarci lì e allora vai 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 a parte perché ci sono le anime no te rindes infatti si questo è il momento nel quale vi chiedo gentilmente di non bexitare ragazzi decido io quando rushare quando non perdonatemi ma in una mappa così difficile è ancora più importante che io mantenga il controllo del gameplay e c'è un motivo per il quale non lo sto aiutando ragazzi eh fa parte proprio di tutto quindi don't una cosa sono i consigli come farlo arrivare a fuoco come poi lui stesso ha intuito i teschiesca però poi c'è ancora billy sì billy è lì ahia uh dai 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 mi piace combattilo eh prima vorrei prendere le anime giusto scusa pushé no no ma anch'io lo volevo combattere poi ho capito che stavo essendo un coglione tanto qui in teoria facendo muro muro dai non te ne andare per favore stavolta fammi prendere le anime torno da te combattiamo oh cazzo no nulla non lo sapevo eh ho preso le anime e le ho lasciate perché lo stronzo udula il chiamo del branco è a rirà parte 3 è che a sto punto sarebbe molto interessante no farsi quella parte di mappallone è enorme comunque questo dlc però ho come l'impressione che da quel palo si vada avanti sempre in una specie di cattedrale in effetti la sensazione non sembra errata tanto qui si può rushare serenamente ti rush però poi potrei provare a fare muro muro se tu voglio lulata io potrei fare qui muro muro ma senza aggrare il boss e vedere quale lupo mi segue qui sostanzialmente ecco qui guardali lì arrabbiatissimi aspetta fammi prendere prima le anime non facciamo cazzate ok ah no è arrivato anche papà quindi niente devo cambiare area per resettare l'aggro secondo me via rollatina tattica per evitare gli attacchi che infatti ho visto dietro la schia secondo me andando qui cambio area i lupi non arrivano ce li leviamo dal cazzo li abbiamo già decisi quindi non serve farlo di nuovo poi se lui vuole lottare vaffanculo basta basta rompere il cazzo eh niente qua muoio non vedo dov'è mi attaccherà sicuramente alle spalle il bastardo eccolo là ecco è andato via in realtà ehi ehi non vedo niente ah sono due ok ok eh poi cerco di ammazzarvi in realtà sarebbe interessante uccidervi tutto ma non succederà mi ammazzeranno loro perché sono tanti tanti veloci ed è uno spazio di merda ok eccolo ok lui è morto bella lì sono morti due molto bene zii hai problemi hai problemi tecnici un lupo è per sempre nel mondo dipinto di golem lo dico ok proviamo a liberarlo da questo dolore intenso non penso si possa no si si allora secondo me credo che le possibilità siano di evocare manus arrivare a questo punto esatto o trovare pokemon zeta anche questo potrebbe essere un'idea vabbè io lo lascio lì ragazzi è sceso no non è sceso ragazzi questo è quello morto è ancora lì vediamo se riesco vedo una zampetta ogni tanto esce fuori eh ragazzi è sceso è sceso in una maniera assurda si è teletrasportato e io ho la focus hash bastardo è lui no ha perso vita no è un altro questo in realtà è la loro tattica clippano per distrarmi ok eh forse è lui sono proprio altri è proprio un'altra mandria un altro franco di pave trillate ha droppato qualcosa attenzione a non morirci ok bella l'ho droppato brutto del muschio dovremo leggerlo ma not today lui è ancora qui? credo che quelle siano le sue zampe e credo che sia tranquillo adesso in realtà si ho finito le frecce cazzo arrabbiatissimo io ho il terrore che riesco a uscire mi devo levare dal cazzo prima che mi ammazzi però così lo vedo adesso no? vorrei anche ammazzarlo per vedere quello che succede però eh non ne vale la pena maestro cioè dobbiamo farci quel pulpazzo come? no è quest'area con cavalieri e lupi e lupone è proprio quel che sembra è un culata sì ok e mo ci si diverte no non si è stunnata mannaggia il cazzo ok stunn fantastico 1 2 3 4 5 6 basta no grido vai fai la grabbina andiamo stunn stunn ho detto ho detto stunn ok 1 2 3 4 crepi ok adesso lei perché prima l'abbiamo fatta troppo di fretta è stato questo il nostro fangu anche non ho terodattili ok sento rumore che non mi piace infatti sentivo bene mi sono sentito come le guardie di Metal Gear Solid quando gli metti il c4 alle spalle porca di quella puttana Eva porca di quella puttana Eva sto lupo di merda secondo me quel coglione è rimasto clippato ma vaffanculo ma vaffanculo mi ha completamente fottuto tutti i piani il pezzo di cazzo i piani i piani rotti verso quella struttura si si percepiscono si si recitano ancora nelle community no lo so che non ero braciato volutamente non ero braciato ne ho tre è perché magari esatto bisogna stare attenti a usarle poi sono cure extra eh capito le uso quando mi servono sto pezzo di merda no ragazzi meglio delle catacombe ma ve le ricordate le catacombe? secondo me non ve le ricordate le catacombe non c'è paragone qui stiamo andando avanti proprio si esatto le catacombe andavo avanti a uno all'ora ok allora intanto prendo le anime poi se ne parla you don't ricordate catacombe sono d'accordo ragazzi la memoria delle catacombe è palesemente non in voi ora ne ho grati abbastanza no anche papà orsa aspetta ho capito adesso facciamo il deaggring o almeno ci si prova deagriamo 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 non l'avevo mai vista ma va di sotto è morto è morto si è buttato di sotto maestro il lupaccio grande? il lupaccio grande ha fatto una carica ed è andato eh ma non conta come sconfitta quella ah ok non credo almeno ecco Mario molto arrabbiato e Mario adesso è morto si madonna quanti vai bravissimo quanto è bello che ti studiano sti lupi si no poverino un altro si è ammalato c'è un altro lupo con la compenetrite maestro è è è proprio eh si si in realtà la stagnazione arriva qui ci vogliono dire questo io sento un lupo e ho il timore che prima o poi mi attacchi da dietro fottendomi eccolo lì il lupo di merda non mi piace per niente questa situazione eh che cazzo però ma come si fa ma come si fa con sto lupo del cazzo alle calcagna è brutto col lupo a si a un culo vai lupo di merda è il mini lad lì è veramente pericoloso ma era ma da dove cazzo è uscito è accanto a lui ah è accanto a lui è il suo pet eh si allora non rabbia pensavo fosse di nuovo del pool di prima purtroppo no quello non te lo eviti lo accompagna proprio e come ho fatto prima a non aggrarlo e forse lo hai ucciso senza accorgersene aggrandolo da solo può essere forse aveva aggrato talmente tanta altra merda esatto vabbè allora diciamo questo maestro ok almeno adesso le anime non sono più porco non sono più incagliate in mezzo al papà esatto e quindi posso andare dritto finiamo la parte del mio dio finiamo la parte del del cavaliere tanto sappiamo che i lupi perdono aggril e poi ci occupiamo di papà lupone dov'è sto lupo bastardo maledetta tanto c'è via via ok mio attenzione alla gravità ok è morto lupo merda very good via ok it's disco baby ma non è vero mio succhia il palle vai vai boh non so come abbia fatto a non colpirmi volevo tentare un perry pazzo ma adesso sembra empowerato e quindi lasciamo perdere ma che cazzo mi prende anche da terra sto stronzo ma mi prende anche da terra lui ha lui ha delle mosse simili ai guardiani di pietra di ulasil quindi si io li trovo io li trovo vabbè mamma mia ah ero appena alzato mi stavo tenendo apposta a terra invece no non ce l'ho fatta vabbè di nuovo tanto sappiamo che rushando andiamo eh no eh no formione non solo non mi va di arrendermi mi fa venire voglia di giocare questo DLC eh no ma sì esatto per ora non c'è qualcosa di insormontabile in effetti no stiamo prendendo le misure qua eh eh sto lupo quanto rompe le palle mamma mia devo stare molto attento yes uccidere questo lupo così adesso qui è top di gamma appena capisco come fare backstab in questo gioco ragazzi è fatta eh ok però finché non lo capisco si suga ok eh bravo lui qui sento un lupo arriverà e mi fotterà ne sono sicuro niente praticamente un boss eh ma sto sto missando tutti i backstab oh sì esatto forse ti conviene forse li missi perché il dash ha ancora recovery e premi R1 prima di essere perfettamente no pronto al prossimo input conoscendo Dark Souls eccolo lì il lupo del cazzo però vabbè non si sta avvicinando quindi per ora lo ignoreremo che forse cagarce lo fa peggio ancora niente ancora nulla arriva si sta avvicinando il lupo eh no ora si ok top no top un cazzo stavo per prendermi lasciata nel muso e ho finito il dashone adesso siamo io e i miei dodge ah ancora niente ah fanculo si buono questo top di gamma ancora gridi gridi colpa mia non era una finestra e volevo crearla dove non c'era mio e mo sei morto ne manca uno che non riesco a ucciderlo ma che cazzo è ma che cazzo si è aperto ma dio morto vai oh adesso arrivo da te adesso arrivo da te dai perché tu avevi raggiunto la torre e adesso stai cercando di fare papalupo per non saltare nulla nel mezzo eh no 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 proviamo ad andare dritti per ora ok quell'area lì è un casino perché andrebbe andrebbe lasciata ma lasciare non ha senso mio dio camminiamo veloci l'altra volta a drangleic sono morto sono dei tizi che pregano sono gli esseri curvini stanno pregando davanti a questa cattedrale oh e tu well well your lady yuria's lord of hollows no bell tolls and yet you've slipped into the painting oh no matter if you've lost your way the words of lady frida will guide you now go on inside show respect and listen carefully ma yuria non è la tipa della chiesa nera si infatti ti ha chiamato lord of hollows eh si di lady frida e mi ha detto anche che è strano che non abbia sentito campane al mio arrivo si quindi solitamente si suonano campane quando arriva un non morto qui e dice che se ho perso la mia via dava a frida che è lì dentro mostrerò la strada non mi va eh dovremo leggere tutto poi ma in questo momento la mia concentrazione è troppo elevata vorrei vedere un po' cosa c'è nella porta come simbolo cos'è una lo stemma dei medici quasi due serpenti intrecciati oh due serpenti intrecciati interessante si due serpenti intrecciati molto interessante chissà forse è davvero il culto kath barra prompt proprio una chiesa la farmacie ecco la dama frida anche tanti dipinti dedicati a lei guarda là è praticamente la priscilla di questo mondo è la donna a cui faceva riferimento forse anche il predicatore che abbiamo trovato nel mondo vero insomma nella cattedrale potrebbe anche se parlava in prostrazione di preghiera persino pregare questa donna sarebbe interessante però sì guarda questa stanza è piena zeppa di suoi dipinti un'ossessione evidentemente e c'è anche una statua di una donna che abbraccia una bimba sì l'hai già vista questa statua ho già visto questa statua? so che non è facile però ho dovuto dirtelo perché altrimenti stavi adesso hai una certa fretta ed è pericoloso ho già visto questa statua? l'hai già vista questa statua? sì l'hai sorprendentemente a dirsi l'hai già vista non è facile ma sono qui ma era più piccolo il bambino? no ho già visto questa statua? sì guarda ti allora dimmi vuoi una mano? no fammi pensare ok ci sono vari luoghi in cui ho visto statue importanti sì ma questa in effetti è molto particolare la cosa è bella che è Priscilla chapeau complimenti ok no e quello quello lo immaginavo però dove l'ho vista? non l'ho vista Ari Amis oh oh sì oh c'era la statua che si girava in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo dove c'erano quei soldati tutti melmosi strani era esattamente lì circondata da queste melme ma aveva la testa corretto bravissimo ce l'hai fatta Gigi bravissimo lei chi è? lei chi è? lei disegna questa potrebbe essere Kaitha? se fosse Kaitha potrebbero essere disegni di Kaitha potrebbe essere una rappresentazione di Velka quindi esatto però di Kaitha non di Velka cioè ci siamo capiti no certo certo però è anche vero che questi dipinti sembrano portare lo stesso abito di questa donna quindi questa donna potrebbe essere Kaitha proviamo parliamo però si chiama Fride appunto sto cercando di oh c'è una scala in realtà però parlerei prima con lei benvenuti per la storia di Ariandel sono Frida ho mai stato con il nostro padre e il resto di forlorn ma forlorn sembra non lord hollos non i non non i 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 non Sì. Quindi la chiave qui è il segno oscuro potenziato Senza quello non sarei potuto entrare Questa è una cosa a cui non ti risponderò adesso Però in effetti Però mi chiamano signore di Londor Tutto ciò che hai fatto con Yuria Aver accettato l'aiuto di Yoel E aver assecondato la chiesa nera Qui ti fa riconoscere Frida riesce a capire Che tu sei il lord of hollows di Yuria Quindi evidentemente conosce Yuria Conosce la chiesa nera E non solo I dipinti sono ancora il luogo nel quale vengono segregati gli eletici Infatti sono per la chiesa nera loro Se mi chiamano signore dei vacui Sono così contenti di vedermi E' evidente che loro sono seguaci della chiesa nera In qualche modo perlomeno la conoscono Esatto E ti assecondano Però mi hai dato un regalo Non la conoscono e basta Tra l'altro Se ti concentri sentirai sicuramente uno strano suono ogni tanto Ciclico Un colpo Sto ascoltando Sì? Lo sento bene Chissà Forse è sopra Ah lei mi caccia proprio da qui No no aspetta Intanto leggiamo un po' tutto quello che abbiamo trovato dopo averle Quindi è evidente che invece tutti quelli che siano qui non tornano non hanno più un posto dove tornare O comunque non si sentono più di appartenere Anche questa terra è dei perduti Esatto Esatto Allora leggiamo un po' di roba che abbiamo preso Dai Siamo i bravi Uno degli anelli della resistenza creati a Karim Aumenta la resistenza al gelo Fride non avrebbe mai indossato un anello del genere Perché il dipinto gelato Era ormai Divenuto casa sua O come l'impressione che a Karim sia avvenuta una vera e propria epurazione Di chi seguiva Come effettivamente aveva senso Visto quello che è successo in Dark Souls 1 La chiesa nera E il culto di Velka Cioè praticamente chi si è convertito a Kaitha è rimasto E infatti abbiamo la nostra amica Monaca cieca che ci insegna i miracoli Mentre invece gli altri sono stati scacciati E magari sono entrati nel dipinto Non avrebbe mai indossato un anello del genere Perché il dipinto gelato era ormai diventato casa sua Poi avevamo trovato il giavellotto Del devoto Del Sì Dei devoti Lancia leggera impugnata dai devoti di Farron Di Farron? Eh adesso ne parliamo Il peso è studiato per l'utilizzo come arma da lancio I devoti attaccano in gruppi Circondando i nemici con un muro di scudi Sfruttando la lunghezza delle proprie lance Come ultimo gesto scagliano l'arma Verso i nemici caduti Per salutarne la ripartita con onore Attacca come i devoti Scagliano una lancia illusoria Che assume temporaneamente forma fisica Allora Quindi i devoti sono devoti a questa chiesa nera O a questa donna? Fermati Ti fermo Ti fermo Perché qui c'è la mega traduzione sbagliata Ah porca puttana Qui c'è proprio il pasticcio Ossia È una sequenza di errori Carino intanto che la weapon art sia quello che ti facevano loro Ti giustifica anche che te ne lanciavano una e ne avevano un'altra Perché è un'illusione fisica ma un incantesimo Comunque Non sono devoti di Farron questi Il problema della localizzazione È che dal giapponese Che utilizza una terminologia yuki Che significa praticamente spettro della morte Loro in inglese, in occidente Anche delle nevi credo Ecco esatto Non a caso Hanno tradotto Follower Perché follower? Perché follower è una contestualizzazione Se non spiegata bene Insensata Se contestualizzata appunto Molto logica Che però in italiano È purtroppo divenuta devoti Creando il macello Ho capito Che cosa significa? Che loro erano seguaci di Farron Ma venivano chiamati follower Non perché erano devoti Ma perché inseguivano Loro sono coloro i quali appena C'è qualcuno da eliminare Appaiono subito come spettro della morte Ti ammazzano Ti danno rispetto E se ne vanno Per quello sono inseguito Non sono devoti a niente No sono inseguitori Non sono devoti Ho notato che in alcuni dipinti Lei va a fuoco O è fuoco Ok 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 È molto strana come cosa Perché non è un'icona Che associerei alla chiesa nera No Decisamente no Ma è lei? Non mi sembra In effetti un po' lo sembra però Eh però Lei ha un panno nero addosso La donna che vediamo È vestita completamente di bianco Anche questo è vero Guarda qui Qui si vede molto bene E mannaggia Perché si deve oscurare Quando uso il binocolo Che io Sai Ora ti rivelo Un mio Kink Soul siano Che la mia chat Conosce molto bene Ma che non ti ho mai rivelato Nelle blind run C'è una cosa che io faccio sempre E farò sempre Fa parte di me Compro l'incantesimo luce Per questi momenti Ah ecco bravo Allora D'ora in poi lo farò anch'io Sì Ricordami di farlo anche in Elden Ring Perché è fastidiosissimo Comunque Davvero ragazzi A me sembra Piurea Che ha arma Arma ghiacciata Bravissimi Grazie Esatto E questo è importante Uno degli incantesimi Creati dal giovane stregone È cazzo Il papa questo Sullivan Prima di abband... Benvenuto nell'episodio La chiesa nera È nata qui dentro Sullivan Non è... È il papa Sì 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 ok 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 Uno degli incantesimi creati dal giovane stregone Sullivan prima di abbandonare il mondo dipinto Infonde l'arma nella mano destra con il potere del gelo Nato e cresciuto nel dipinto quindi è stato partorito qui Bravissimo Non poté apprezzare davvero il gelo della sua terra natia perché il suo cuore non conosceva ancora il dolore della perdita Qui in giapponese Te la metti in maniera un po' più esplicita e meno poetica Ossia sottolinea con enorme ferocia nel linguaggio che Sullivan è diverso da tutti gli altri Certo Perché c'è nato nel mondo dipinto È chiaro Lui è qualcosa che non esisteva assolutamente in Dark Souls 1 Un natio No Priscilla era già viva Assolutamente Certo Priscilla era stata drone to the world Invece lui ci è proprio nato E ha abbandonato il mondo dipinto Perché non avendo mai avuto nulla da perdere Avendo già il suo universo all'interno di perduti e disperati Non comprendeva, non poteva vivere qui Non è, cioè lui non era un perduto Lui è nato in questo posto E quindi non soltanto è andato via Ma ha creato qui un incantesimo Questo significa che è un personaggino Nato dal niente, a dir poco Con un pelo di ambizione o sbaglio Assolutamente sì E tra l'altro è strano perché Questo è il luogo delle persone Che non si sentono di appartenere altrove Lui invece è nato qui Quindi si sente di appartenere qui Prima ancora che altrove Questa è casa sua letteralmente Quindi è stranissimo come personaggio E poi è divenuto pontefice della Chiesa Nera Quindi o la Chiesa Nera già esisteva E lui ispirato dal dipinto Ne è poi divenuto capo uscendo Oppure l'ha fondata lui E quindi in realtà la Chiesa Nera è un'idea Che nasce qui ma che poi si sviluppa davvero Con Yuri e con tutti gli altri Con Joel e via dicendo Nel mondo al di fuori del dipinto Inoltre abbiamo trovato la gemma vacua Una gemma di titanite infusa Molto diffusa l'Hondor La terra dei vacui Viene usata nelle infusioni per creare armi vacue Si dice che le armi vacue sfruttino l'essenza del loro padrone La cui fortuna contribuisce a potenziare gli attacchi Questa Sembra una gemma Sì Sulla quale nasce lo stesso segno oscuro che abbiamo in petto È vero Una sorta di richiamo del segno oscuro La vacuità Sì E tu sei molto vacuo In teoria questo potenziamento Sembra fatto per te Ma si basa anche sull'eccentrica caratteristica fortuna Ah Strano che si possa infondere titanite con la vacuità Come se fosse un elemento L'Hondor è riuscito a fare molte cose Anche a spegnere il segno oscuro Oh mio Dio Un altro dipinto È qui il pittore È qui il pittore Ah no però il pittore è semplicemente dei dipinti che stanno giù Credo Ma non voglio toccare macchia di sangue Ha un aspetto familiare Solo coda Cosa parlano di Priscilla Chi è che batte Eh infatti questo rumore è Questo rumore è molto insistente Molto inquietante E ha eco Evidentemente non è un nemico glicciato No 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 Però sì Qui davanti a te c'è un'enorme tela Questo è un luogo estremamente suggestivo Allora io credo che qui Il pittore non del dipinto di Ariandel Il pittore dei dipinti che troviamo di sotto Lavorava Ok Chi era questo pittore? Sullivan? Sullivan passava il suo tempo a dipingere questa donna che troviamo sotto E visto che hai cambiato argomento Su una cosa ti corrego Perché è proprio centrale di cose che già conosci Ma è naturale in questo overwhelming di informazioni Avere qualche inversione di dati Sullivan è decisamente papa Ma della via bianca Non della chiesa nera Ah della via bianca? Esattamente Eh sì Ma chi era il papa della via bianca? E della chiesa nera? Non ce l'ho più il tomo però Eh della chiesa nera sai molto meno di quanto pensi Della via bianca? Sullivan è succeduto a Lloyd Sullivan è succeduto a Lloyd Giusto Eh giusto hai ragione Spada donata ai cavalieri Della missione della valle boreale È avvolta dal ghiaccio e provoca congelamento È destino dei cavalieri della missione di trasformarsi in bestie Perseguitate in eterno dagli occhi neri Del gran sacerdote Sullivan Hai ragione Quindi Sullivan È il papa della via bianca E non sta a Londor Sta a Irythil Barra valle boreale Quindi in pratica è passato da È tale perché il freddo l'ha portato lui probabilmente Qui in pratica è passato È passato da un posto freddo a un altro posto freddo No Secondo me lo ha creato lui Uno stregone del ghiaccio Tu stai dicendo che Sullivan Hai come indizio questo incantesimo E quindi ha creato la valle boreale fuori dal dipinto Non è il senso che ha creato la terra L'area natale Oh 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 Nice Fico Il papa Sullivan esce dal dipinto Per creare una terra a immagine e somiglianza del dipinto Ma fuori da esso E Crea i guerrieri bestia Che hanno una missione Però Che cazzo di cosa strana è che Colui che crea la via bianca Cioè che crea Che eredita la via bianca Quindi in teoria Una Via molto vicina Al culto del vincolo Venga da un posto che Idolatra Velka Abbracciata Priscilla È o no Un personaggio interessante Ma è anche proprio un Un controsenso Ti torna Sei d'accordo Ma certo che sono d'accordo Sono molto d'accordo È per quello che io pensavo alla chiesa nera E probabilmente mi sono sbagliato Perché ho detto Beh c'è Velka qui In teoria Per forza di cose Se Velka È presente qui come icona Probabilmente lui sarà diventato Papa della chiesa Che la rappresenta al meglio Invece no Quindi ho cambiato idea No Cioè in realtà scappa da qui Perché scappa Dalle figie di Velka E nutre idee esattamente contrarie Forse per questo Disegna la donna Se questo è Sullivan Però ovviamente sono tanti Se Emma Disegna il fuoco Perché lo desidera È molto bello che Da così poco Si stia parlando così tanto Di questa entità E poi chi è che c'era? La danzatrice? La danzatrice era Con lei la quale Veniva accompagnata Nella nazione Da Vort Esatto Ma non l'hai mai incrociata I grandi occhi neri Tu non hai gli occhi neri Vero? No Non si fa vedere Ah parla Ah sì sì Eh no Lei Lei è molto particolare Evidentemente Mo la ammazzo D'altronde la descrizione Almeno vedo che ho No Bella cosa bella dei Souls È che puoi fare quello che vuoi Però il fatto è questo È che Lei Come dice nella descrizione Ovviamente non era Natia Il dipinto è diventato La sua casa Beh Beh Gli occhi sono grandi Eh sì Gli occhietti Gli occhietti di lei Sì Controlliamo se abbiamo altro Che parla di Salivan Mannaggia Non questo Sicuramente non Velka Ah ah Eccolo qua Esatto Occhio sinistro del sacerdote Anello maledetto Donato dal gran sacerdote Salivan Ai suoi cavalieri Gli attacchi consecutivi Ripristinano pv Quello che sto usando I cavalieri che scrutano Nella sfera nera Cioè negli occhi di Salivan In teoria Vengono attratti In un incubo Di guerra e sangue Accidenti Minchia Allora I cavalieri Che scrutano Nella sfera nera Che in teoria È proprio l'occhio No I grandi occhi neri Loro sono perseguitati Dai grandi occhi neri Probabilmente Potrebbero essere Occhi figurati E non i veri occhi Di Salivan No Questi occhi Che lui crea Se i cavalieri Guardano dentro La sfera nera Vengono attratti In un incubo Di guerra e sangue Trasformati in bestie Rabbiose Come Vort Vengono attratti In un incubo Di guerra e sangue Come se non Ragionassero più È come se Venissero inseriti Nel loro mondo Dipinto di merda E piscio E quindi Cominciassero a impazzire E poi comunque È un anello Che assorbe La vita Attaccando Insomma È una cosa Abbastanza dark Non stupisce Che il gran sacerdote Doni quest'anello Solo a chi viene inviato In terra straniera Come Vort Che non è nella valle boreale Esatto Che viene inviato In terra straniera Per non farci passare Per non farci passare Quindi Sullivan È il capo Della via bianca Ma non vuole Che vincoliamo O meglio Sullivan È un'ottima domanda Beh Perché dovrebbe Mandare Vort A fermarci Perché non vuole Che uccidiamo I guerrieri Cioè I lord Dei tizioni No? Mi sembra Un'obiezione Lecita Quindi Sullivan Cos'è Un impostore Un È giorno Giovanna Che vuole distruggere La via bianca Dall'interno Quando il maestro Non mi risponde È importante È un feedback importante Diciamo che In questo caso Ti posso garantire Non ho fatto Espressioni pazze Nella mia live È semplicemente Qualcosa Che ad ora Ti stia sviluppando Dubbi e hype Perché questo personaggio È nato nel mondo dipinto E sembra avere Dei comportamenti Dei desideri Delle fondamenta Proprio del suo essere E delle conseguenze Delle scelte Che ha fatto Piano piano Nella sua esistenza Che ha portato A anelli Sfere Che sono i suoi occhi Ma che permettono Di scrutare Una missione Creature ferali E attacchi Che mangiano la vita Cioè Che cosa Diamine È successo Cosa desidera Chi è Cosa è Ecco Sullivan È una di quelle cose Che da così poco Ti ha dato così tanto E quindi Anche il silenzio vale Sembra tutto Tranne che Guinnico E se fosse un fratello? Se Priscilla Non fosse Da sola? Oh Però Non posso Darti troppa corda Qui perché Per essere Nato nel dipinto Evidentemente Non è molto tempo fa Non troppo tempo fa Questo dipinto però Questo anche è vero E se il tempo Non scorre Se la tua teoria Del tempo che non scorre È illecita Cioè È giusta O se no È il figlio di Priscilla Anche questo è plausibile Ci sono molte opzioni Qui Sei in un Caleidoscopio Di mistero Sei davanti A una statua Che era all'interno Del mondo dipinto Priscilla diventava Invisibile Sì Vort attraverso Se fosse il figlio di Priscilla Comunque parente di Priscilla Attraverso l'anello Eh però abbiamo detto Che non è invisibile Vort Esatto Era un portale Però Chi meglio Di un uomo Nato in un portale Può riuscire a sviluppare Un potere Che crea portali E sposta le persone Da una parte all'altra Chapeau Sì Questo ha senso Ci pare Decisamente Cioè lui È in grado Di Creare questi portali Per i suoi Soldati Soldati Che vengono guidati Dai suoi occhi E Tra l'altro Bisogna anche capire Lui come è uscito Dal dipinto Sì esatto Magari è uscito Con lo stesso potere Che poi ha condiviso Attraverso gli anelli Ai soldati Che però Sembrano perdere Proprio Sembrano perdere Cumanità Sì sì Cioè diventano Letteralmente I suoi occhi Sullivan Attraverso I suoi occhi Osserva Lothric La missione Ma gli occhi Sono Una possessione No Diventano bestie Come le bestie Attorno alle quali È cresciuto Qui ci sono lupi No Sì Tanta ciccia Da una sola descrizione Però Si può andare Fino a un certo punto Oltre Già Però mamma mia Mamma mia Perché cazzo Non sono entrato prima Qui dentro Sarei dovuto entrare Qui dentro Tre ore fa Almeno Sarei stato Anche più fresco Mentalmente Hai parlato Con Fried Hai visto Salire sopra Ma l'ho già fatto Forse Sei salito sopra Dove è il quadro E mi sa che Allora O esco O vado a Riprovare Beh Comunque devi uscire In entrambi i casi Nel senso che Parliamo con il cavaliere Vediamo un po' Sarei soddisfatto Eh però Anche qui Mi è nata la confusione Loro sono contenti Di vedermi E sono contenti Di vedermi In quanto rappresentante Della chiesa nera E infatti Avresti avuto Dialoghi Probabilmente Molto diversi Non avessi fatto Quelle scelte Oppure Aldia No No Badate bene Non intendo Che sia Aldia Veramente Intendo dire Che cerchi Una terza via Cioè Usa la via bianca Per congelare Il mondo E Magari così Lui in testa sua Pensa di salvarlo Questa frase Me l'ha fatto venire in mente No Non 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 allontanarti Dalla fiamma Perché altrimenti La neve ti prenderà Magari È quello che vuole fare Sullivan È Far prendere L'intero mondo Dalla neve In questo modo Forse Fermare Tutto La stagnazione L'oscurità È un po' Il senso stesso Della Dell'ibernazione Tutto si ferma Tutti i processi Di Deterioramento Sono Sono bloccati Aspetta Ci sono così tante L'ho detto L'ho detto L'ho detto Aspetta Fermo Fermo Non è congelata Sta merda Aspetta Il simbolo scuro È congelato Beh È un po' Congelato Sì Certamente Il fuoco Viene spento Dal freddo Da questo E allora Sto Sullivan È un gran figlio Di puttana Nel senso che Ok Nel senso che È papa della via bianca Ma è Colui che ha dato Almeno gli strumenti Teorici Per la chiesa nera Per fare questo Un mega Stronzone Insomma Mio dio Mio dio È la puntata più Mindfuck Che abbiamo mai fatto Mi sta esplodendo Il cervello Con due descrizioni Allora Sullivan Nasce Nel mondo dipinto È È un mondo dipinto Nel quale Le alte cariche Come questa donna Raffigurata In molti quadri Che vive in una abbazia Che si chiama Damafride Idolatra L'oscurità Addietro Una statua di velca Con priscilla Mi vede E minchia Si cala le braghe Oh Signore di Londor Mamma mia Mi ingravidi La prego Ok Anche lui Anche il cavaliere Fuori uguale Sullivan È nato qui Ma poi se n'è andato Da giovane È uno stregone Che ha sviluppato Magie di congelamento E poi È divenuto Papa della via bianca A Eritil Dove si dice Che gli dei La discendenza Degli dei Sussista Il che sarebbe Coerente Con Sullivan Affondato La valle boreale Perché Sullivan È un dio E Sullivan Se fosse imparentato Con Priscilla Sarebbe pallido Come pallidi Sono gli italiani Che abbiamo visto Nel character selection screen Ok Ci siamo Però lui È della cazzo Di via bianca Quindi in teoria Dell'opposto Dell'opposto Complicato Mi chiedono in chat Perché continuo a dire Che sono felici Che io sia lì Beh Porca miseria Mi hanno fatto le feste Ti hanno fatto un dono Ti rispettano Certamente ti dicono Però che non è il tuo posto Questo No certo Però Mi sembrava una cosa tipo Salvaguardati Tu un posto ce l'hai Là fuori Segui Continua a seguire Le parole di Yuria Non deluderla Esatto Ma non mi hanno detto Di andartene Vattene O ti attacchiamo Ragazzi No Non mi hanno dato Questa impressione Non sono d'accordo Non mi sembra Un levati dal cazzo Guarda Ho la chat Che punzecchia E allora La secondo Visto che stai facendo Così tanti Viaggi E stai notando Tanti dettagli Stai notando Lo hai chiamato un po' Il figlio di puttana Questo potrebbe fare questo Forse ha fatto quell'altro Mi sembra un po' Incoerente Questo personaggio Come mai è così inconsistente Aspetta un secondo È il papa Il sviluppa incantesimi Della via bianca È un papa Stregone Non è un Chierico Non fa miracoli Fa magie Cioè È un'altra Ticotomia Dovete far miracoli Esatto Non stregonerie Esatto Appunto Esatto A me sembra Ragazzi Io ve lo dico Poi nel senso Se devo per forza essere Del parere di chi magari Mi scrive perché ha già giocato il gioco E mi dispiace Però dal mio punto di vista Non mi stanno cacciando Come per dire Levati dai coglioni Non ti rispettiamo Fai schifo Stanno dicendo Sei un grandissimo signore Tu sei il lord of hollows Sei il lord of hollows Però vattene Questo non è il posto per te E detto da dei dannati A super senso Questo non è il posto per te Te ne devi andare Tu hai da fare delle cose Tu non sei un dannato E un perduto Tu sei Il lord di Lady Yuria Esatto Quindi mi hanno dato L'impressione Sì di dirmi Di andare Cioè mi hanno detto Di andare via Ma non perché Sono infelici di vedermi Inoltre Hanno una cazzo di statua Di Velka dietro Io la rappresento Perché sicuramente La chiesa nera Ha a che fare con Velka Però Saliva un fila via Il ponte Fonda la valle boreale Secondo la mia supposizione Lo specifico Certo certo Dona i suoi occhi Questi anelli Ai cavalieri più forti che ha Così che possa vedere Attraverso i loro Li fa impazzire Li rincoglionisce E Ha una missione In tale missione C'è sicuramente Coinvolto il Non permettere Alla gente Come me Di trovare I lord dei tizioni Perché appena Io provo Di andare Nell'insediamento Dei non morti Che è la strada Per arrivare Ai guardiani di Farron Anche ai guardiani di Farron Probabilmente non solo Vort mi ferma E mi fa Eh no pezzo di merda Non te ne puoi andare da qua Quindi la sua missione Sembra essere collegata Al A Non fare uscire Eh le persone Dalle alte mura di Lothric B addirittura Non far Eh Sedere O meglio Non far portare I tizioni Dei lord Sui troni La chiesa nera Però non è collegata Almeno direttamente A Sullivan Perché Sullivan Rappresenta La via opposta Quella bianca Anche il colore Suggerisce che siano Due ideali opposti Ciononostante La sua magia Sembra la base Della chiesa nera Il congelamento Lui ha scoperto Come congelare La fiamma Lui ha scoperto Come congelare La fiamma È tutto Scusate Mi sto viaggiando Con la terra Eh lo so Ma è Come congelare La fiamma Andrebbe congelata In teoria Lo farà da sola Di spegnersi Cioè il segno oscuro È sempre stato Inattaccabile Fino ad ora Ma Londo È riuscito A fare qualcosa E infatti Lo definiscono Il vero potere Del non morto Sento una canzone Sto sognando Maestro Sento cantare È normale Sto impazzendo Forse un po' Sto impazzendo Dipende No non era un canto Era un verso Esatto Sembrava una bambina Che faceva Invece era proprio Ok non ci resta Che capire Adesso vedrai Una cosa Che apprezzerai molto Adesso devo capire Chi cazzo Faceva casino Maestro Era qui dentro E continua a fare casino Probabilmente È oltre La porta Sì esatto È però Non posso entrare Quindi niente È no Puoi andare via Come ti ha chiesto Ah però in realtà Tu non stai andando via Col falò Quindi sei molto Ti sto consigliando Di farlo Per farti notare Che lei conosce Il potere Del falò No 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 Me lo immaginavo Però non voglio andare via Esatto E poi c'è anche L'icona Della Tra l'altro Gli uomini corvi Pregano Questa abbazia Quindi velca Ci sono anche i corvi Che volano nel cielo Guarda Erano i loro versi Che sentivo Ah e lì c'è una scala Non l'avevo vista Si può proseguire In realtà Andando in basso Beh ci proviamo E infatti È quello di cui parlavo prima È il level design Che ti fa vedere Che hai perso una strada Ma con stile Ma tu non potevi Accorgertene Diciamo bene Prima Esatto La puoi trovare Però Sento una lucertola E infatti c'è Bravo bravo Se avessi utilizzato L1 qui No Eh no sei una puttana Però Tanto se muori Ti dà comunque il drop In Dark Souls 3 Quindi Ah ok bella Sei Ben detto Ci sono due strade Proverei prima quella Della doppia scala A sto punto Perché c'era un'altra scala Qua Ah no Non è Oddio Moskamen Non usare L1 Francesco Cirurzo Non usare L1 Per l'amore di Dio Pietra confessionale Cosa faceva la pietra confessionale? Era quella che toglieva La pietra confessionale Sì è quella che toglie le infusioni L'infusione Sì Tra l'altro c'è anche sto schifo Tipo organico Che cresce Cos'è? È Larve? Effettivamente È pustolente Sembrano larve Magari sono le uova delle mosche Sono le larve che stanno infettando il mondo normale Ce le ha portate Sullivan Sullivan Nuova velca di questo gioco Adesso dirò che tutto l'ha fatto Sullivan Mi sa di sì È finita ragazzi È finita Tutto è Sullivan Dove cazzo si piglia quell'altra scala che ho visto? Mannaggia tutto Sì 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 Esatto Sullivan is the new chimere Esattamente Hanno rinchiuso l'ombrella Nel TP Dove la prendo l'altra scala? L'ho vista di qua Eh sembra essere oltre lo scalino Che non puoi raggiungere Eh quindi non posso raggiungerla da qua Pare di no Forse devo andare giù e poi risalire Può essere Cioè è un risalino E non uno scendino E allora proseguiamo Guarda Vediamo un po' Oh mio Dio Fermati 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 Ecco E fai entrare anche il ponte in inquadratura Così fa figo È una bella scena questa Sì Firelink Shrine Quello di questo gioco Sembra di nuovo tutto eruttato In maniera strana Guardandolo da qui Da questa prospettiva Ne riparleremo Noi troviamo il ponte Che portava Noi troviamo il ponte Che portava Una cattedrale A Drangleic Vero? Noi troviamo Sì Era il santuario del drago Il culto del drago Esatto Esatto But We don't do that here Non parliamo del santuario del drago No 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 Ok ok Non ti preoccupare Assolutamente Cosa mi ricorda? L'abbiamo già visto Non me la toglierò dalla testa Ah come prima Non mi hai chiesto No 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 Non mi devi dire niente Ok Perché Io in caso ci sono Però in realtà Non ho detto Ne riparleremo a caso Non è qualcosa Che deve essere Obbligatoriamente Richiamante di qualcosa Adesso O dopo Vedremo Non saprei C'è un po' tutto Chiaramente ricorda Riamis Però È tutto Quindi non Non lo so Magari è davvero È ex Cioè oddio Questa Questa Sembra proprio L'inizio di Ariamis Guardala così E lì c'è il falò Però non può essere Perché Dopo il falò Ad Ariamis C'era una struttura enorme Qui non c'è C'era una struttura Ok ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Ti torna che sembra il primo Falò di Ariamis Quello come iniziale Il mio averti Il mio averti fatto Osservare da questa Inquadratura Sta portando al risultato Che speravo Ossia Adesso facciamo qualche Step forward Perché Se sei arrivato a tanto Possiamo andare Al passaggio successivo Allora Sì È decisamente Un'inquadratura Ma non soltanto Un'inquadratura Una conformazione Piuttosto congrua Al mondo dipinto Di Ariamis Ma c'era anche il ponte Prima Non me lo ricordo Guarda Se ti va Puoi Aprire un secondo La mia live Come no Non mi ricordo Se c'era il ponte Prima di quel falò Però da questa Inquadratura Non tanto da quella Che mi hai fatto fare prima Ma mentre stavo tornando Indietro E guarda Apri là un istante Qui ho proprio detto Cazzo è il primo falò Però poi dopo C'era tutta quella struttura Con i dannati Era molto più grande La sto aprendo Bene Ah minchia Sì Diciamo che In effetti Ma com'è possibile Allora In Ariamis Abbiamo questo ponte Identico La struttura Geologica Che sale Identiche Sì E Un tutto distrutto Un tutto distrutto Qui no Qui non lo è Tuttavia Hai ragione Voglio dirti che Hai ragione C'è qualcosa che non va Le dimensioni E in qualche modo La fine Anche di nuovo qua Terrena Del terreno Della topografia Dell'ambientazione Sembra Innaturale Come Lothric E questo è strano Però È possibile Creare una convergenza Di dipinti Sarebbe Un casino Se fosse così Però La domanda Volevo Fartela porre Te la sei posta Possiamo andare Credo che possa essere Più ispirato Ok Già questo Essere effettivamente Quello Ok Già questo È interessante Potrebbe essere ispirato Perché Perché dopo Il dipinto di Ariamis Continuava Quello era l'inizio Resta E invece non c'è altro qua E soprattutto Non c'era tutta questa parte Antecedente Sì Esatto Esatto Non c'era la parte Antecedente O meglio Il ponte era distrutto Sì E poi qui c'è Boh Una città Un borgo E qui c'è un intero borgo Esatto Ma che cazzo è E poi c'è Guarda Wow Macchie di sangue Questo posto però Non può essere E non merita Di essere Erasciato Spero di riuscire Ad affrontarlo Non male Perché è troppo Pregno di lore Mamma mia Per viverlo Con la paura Di morire Esatto Vediamo Vediamo Il mondo è tuo Le scelte sono tue Per ora Andiamo Bravo Drake Mi piace la tua lettura È normale Per un lettore Per un pittore Dipingere Lo stesso soggetto Molte volte Hai ragione È la cosa Che mi convince Di più Per ora Abbasso un po' Ragazzi Perché avevo alzato Per capire Se era un canto È la cosa Che mi convince Di più Bravi Semplicemente Il pittore Che magari È lo stesso O c'è un allievo È fissato Con questo ponte E questo promontorio È la cosa Che mi piace Di più Per ora Sì Oh Cazzo Adesso c'è la culla Del caos Merda Che ansietta Già Ma dove cazzo Ma che cazzo È quella roba È anche Quella Lignificata Ma è tipo Un verme È un verme Con dei capelli Enormi Mamma mia Che bestia immonda Però se mi butto Non risalgo più Sembra un incubo Quel posto È vero Alternative Salire E allora Era quello Una di quelle robe Che si vedeva In lontananza Ad Ulasil Vero Sì sì Un po' il Colosseo Esatto E sembra anche La torre di Ariamis Ora che c'è Oh Soprattutto Sembra la torre di Ariamis Molto più Che il Colosseo di Ulasil Sembra proprio La torre di Ariamis Anzi Dove avevamo Mi la ricordo molto bene C'era la scala a chiocciola E c'era il Corvo Guarda Permettimi Sì Di porre la mano Prendere la tua E dirti E metterla sul pipo Più o meno Guarda Zuma un po' Zuma con il binocolo Ok Abbassa leggermente L'inquadratura Di poco 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 Basta No troppo Ok Ora leggermente verso destra È l'arena di Priscilla Bravissimo Ce l'hai fatta Bravo 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 È chiaramente l'arena di Priscilla Yes In realtà ci sono arrivato Ma per un dettaglio Che Mi dirai Ma come cazzo hai fatto C'è quella roba rotta E me la ricordo Quella specie di colonna rotta La guardavo spesso Perché dovevi cambiare Continuamente la telecamera Bravissimo Il grande Il grande indizio È ovviamente La scala Per andarsene da Ariamis È quella È dove hai trovato Anche il corpo di Xanthos Cioè O meglio Di Jeremia Eh no Però allora Questa non sembra essere Un'ispirazione Cazzo Questa cosa è un po' strana Quindi Ariandel È Ariamis Dopo che Salivan L'ha congelata Che cosa è successo Che cosa è Ariandel Esatto Ok Ok Stiamo facendo grossi Step forward Madonna mia Vorrei un gioco solo su questo Hai visto Che meraviglia Cioè Questa cosa Per me È talmente figa Il dipinto Secondo me Secondo me ci vorrebbe In gioco a parte Sul dipinto Cavolo Cavolo Miyazaki Se vuoi fare una collab Con me Esatto Esatto Un sacco di idee Esatto Ok Una restaurazione Del dipinto Anche mi piace molto Come idea Però qui sembra Proprio che sia Il ghiaccio Ad averlo alterato E dire che prima C'era la neve Ma ora è proprio Eh sì Qua c'è proprio Un congelamento Ma Qualcosa è successo L'idea di restaurazione Funziona con il ponte rifatto E l'edificio ricostruito Si sa però Che altro c'è dietro Vediamo Vala Che cazzo sono questi Human centipede Ah no Sono corvetti Eh sì Ma non sono riusciti a nascere Tipo sono cuccioli Sono corvetti Sai chi sono Sono quelli crucifizi Forse Eh Fuori dal mondo Dai guardiani di Farron Dalle lune Beh i corviti Sono anche usciti Eh sì certo Solo che purtroppo Questi non Escrementi con miccia Minchia che ridere Ti lanciano la merda bomba Questi Ma quella è la loro merda bomba Mi sa Stanno cacando maestro Quella è merda Eh Non è nulla di sano Ecco Eh ma Escrementi con miccia Vuol dire che loro sono Circondati Quella è cacca Mi sa di sì Cioè quella è proprio cacca Si cacano Nella coda Questi sono È veramente cacca Eh mi sa di sì Che schifo Si cacano in culo maestro Si Ne abbiamo Discusso Guarda Girano con della merda Attaccata al culo Bello Esatto È una bella immagine Ah è lei È lei la regina merda Non avrei in realtà È diversa È una Arachnide Lei è mostruosa Si lei è È un incubo Vola Ah Sparita Si Praticamente loro sono tipo Dei cuccioli di corvo Uomo Che però non riescono Bene a nascere Sono Malandati Non riescono Non è anche a defecare No siamo purtroppo In un ambiente Ti fa capire qua Fortemente disperato Le cose non funzionano Escrementi Con me Escrementi secchi Con una Da cui spunta Il lungo stelo Non digerito Di una pianta Lanciati contro un nemico Ne aumentano la tossicità Incrementando però Anche la tua Dire il vero Il materiale di cui sono fatti È diverso da quello Degli escrementi Ma alla fine Sono pur sempre rifiuti Quindi non è propriamente Merda Eh no Eh no Esatto Sono escrementi Nel senso Che il corpo Di queste creature Li espelle Hanno provato A far ingerire A queste creature Della roba Che non è stata accettata Dal loro corpo Di male in peggio Con un ramo Forse forse Tentavano Di forzare Una trasformazione Linea Di questi Cosi Ma quello che Ne è uscito fuori È questo Ma che cazzo hanno fatto Ariandel Esatto Che cavolo è successo Ad Ariandel Guarda che questo È molto importante È successo qualcosa Ad Ariandel Qualcosa che non doveva Assolutamente succedere Guarda che anche questo C'ha proprio i rami Esatto Bravo Eh eh Esatto Hanno cercato Di fargli ingerire Qualcosa che li avrebbe dovuti Lignificare Al pari delle donne Che piangono Cosa Ora c'è da capire Questo è il mondo Che cercava di costruire Sullivan O è il mondo Dal quale è scappato Eh infatti Esatto Ottima domanda Cioè scappava Da questa merda O era quello che La creava Eh sì Far ridere Gli hanno messo Un palo in culo Però Eh sì Sì esatto In realtà Gli hanno messo Un palo in bocca E loro l'hanno ricacato Qua si prosegue Tra l'altro Oh mio dio Questo grido E quindi questi potrebbero Essere i dannati Di Ariamis Eh O comunque Nuovi Che avevano tipo Dei buboni Eh sì Qui purtroppo Siamo arrivati A un limite Di qualcosa Tanto che Non sono neanche Davvero nemici No ragazzi Questo posto è incredibile È il posto più bello Che abbiamo esplorato Finora Con tutto Che il DLC Ci stava tritando Lano Però È pieno Di mistero Eh sì Eh sì sì È tanto denso Che cazzo c'è lì Parlando di mistero Altre Altre donne Arachnidi Un oggetto Sì Sembra qualcosa di importante Ma non posso proseguire Di qua Un fiume di sangue Sporco Mamma mia Altro sangue Larve Eh sì Sì sono sì Sono sicuramente Le larve delle formiche Purtroppo Disgustoso E quindi anche Uomini formica Ma 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 È arrivato Sekiro Forse non tutti i corvidi sono disarmati Eh Potrei aver sbagliato E aver usato Con Cura Il binocolo Potrei Essere morto Per questo errore Succede Dai Perry con la torcia A questo Il passo è breve Possiamo andare avanti ancora poco poco Assolutamente sì Ti dispiace Ok Immagino tu abbia già in mente il finale E non voglio allungare troppo la live Sennò diventa poi un delirio recuperarsela Però No guarda Rispetto Ai miei obiettivi Stavolta in questo luogo Si può anche Essendo venerdì Interrompere nel momento nel quale Tu lo desideri Io ho in mente un finale Ma questo non deve essere nulla dirasciato Ne Posso sapere quanto manchi In base a tante variabili Quindi non preoccuparti Sereno C'è una cosa che potremmo fare Ma non la faremo Tu gioca E intanto è dopodomani il proseguo Eh no no Certo certo E ti trovi comunque Ad aver appena avuto Una sconfitta Da un corvide In armatura E lo osserverai Ti ricorderà tanto Qualcosa che hai già combattuto In passato Eh mi ricorda le marionette Del Di S2 A livello di Combattimento sicuramente Sì A livello di Moveset Iniziale con le falciate Anche Però È un corvide Quindi Sono morto come una scena Tranquillo E Dicevo Perdonatemi Questa parte però Sembra decisamente più Accessibile Dell'altra Più soft Sì L'altra era veramente Troppo L'altra era veramente Troppo 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 Cattiva Non riuscivo Ad andare avanti Se non Rascando Eh ricordati che comunque Questo è un Dark Souls Quindi si pensa anche magari Di avere un personaggio Che possa decidere Di mettersi un bello scudo Per prendere quei lupi E sbatterglielo in faccia Cioè Provate a mordere questo Merde no? Ecco No no certo certo Allora qui Va fatto un attimo Con Criterio Non era quello che volevo fare Ma va bene Ha funzionato Attento a quell'L2 Ma sono quasi morto Per farlo Ok top Tra l'altro Non mi ricordo L'armatura di Eritil Non è un po' simile Alla loro L'armatura di Eritil È incredibilmente Sinuosa e argentata Vista troppe poche volte Anche questo è vero Nella chat di sub Erano preoccupati Che il DLC Ti avrebbe over livellato Vabbè Allora È veramente difficile Secondo me Perché Esatto Allora Sì Mi avrebbe potuto Over livellare Se avessi voluto Affrontarlo Per over livellare Esatto Ogni volta Livellava Tornava indietro Capito Esatto Cioè Avrei potuto Già over livellare E avrei già potuto Mettermi tranquillamente Mille volte in saccoccia 30k Esatto Non lo voglio affrontare Con quello spirito Esatto Esatto Perfetto E poi comunque È messo qui Non a caso Cioè Il giocatore medio Può fare Tecnicamente Esattamente questo Poi magari Si blocca Perché Appunto È punitivo Però Cioè Non è il DLC Di Artorias Ragazzi Raggiungere questo È entrare Nel percorso centrale Della cattedrale Ho detto Per me la parte Proibitiva È quella Con i giganti Eh sì sì Infatti Infatti Non a caso Perché lì devi fargli 40 backstab Con i danni attuali Esatto Veramente tanti E anche lì È fattibile Ma devo migliorare Con i backstab Ok La parte Proibitiva Per ora Dicono in chat No Hanno ragione Certo Per ora Nemico Veloce Dobbiamo andare Di Lame Ok Eh Cattivo Eh Bravo Mamma mia No 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 Non mi piace 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 Mamma mia Che cattivo Eh vedi È proprio L'attacco Dei corpi Di ariamis È vero Sono perriabile Minchia Ovviamente No Sei vabbè Mamma mia Mamma mia Pure il sanguinamento Cazzo Cattivo Eh Questo Questo è Ariandel Che vuole parlare Dal giocatore E ti dice Sono sicuro Va bene Supera questo No questo si può fare Sì 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 Sono d'accordo Sono d'accordo Sono d'accordo Non è che ha tanta vita ragazzi Sono io che sono Con un'arma più un cazzo Spero sia uno Hai anche ottenuto qualche materiale Cosa? Hai anche ottenuto qualche materiale Se vuoi No diversi Non qualcuno Vediamo Ancora Scendi Per favore Le turbolani No le discolame Me le fanno loro Non le turbolani Ha anche tanta vita Dico una Fershinger Eh Certamente Tosto Quello sicuro Buono Via dal palle Bella lì No 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 Facciamoci fottere Da Gianni Per favore No Ciao Ciao Mario Ok È vero Anche io Ci ho visto Made in Abyss Archibald Cioè ovviamente È il contrario Credo per ordine cronologico Ma anche io Ci ho visto Made in Abyss Mamma mia Ok Tipo anche questi Ammazzarli in un colpo solo Sarebbe piuttosto Un blessing Invece di tritarci Sopra stamina Comunque In Dark Souls 3 Va un sacco Fondere Gli uomini Agli animali Cioè va proprio Di moda E noi siamo Già a 5k Ok Andiamo da Marione Dai Dobbiamo capire Come fotterlo Come fotterlo Marione Ah già Mi scordo sempre di lui Dai Gianni Morandi Ok Il Sekiro Per me Backstab Disco lame È l'unica via possibile Ma devo essere bravo Ma devo essere bravo a doggiarlo Ma devo essere bravo a doggiarlo Ma devo essere bravo a doggiarlo Oh sì È come giganti di merda lui Via, 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 bevi, bevi, bevi Mio, no Ragazzi, quanto è figo il level design di quest'area Quanto è figo il level design di quest'area Mio No, questo salto potrebbe costarmi carissimo Bevi Mannaggia al cazzo Bevi, 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 bevi Per l'amore di Dio, bevi Ah, il sanguinamento Eh, ci sono anche consumabili che ti proteggono dal sanguinamento Ma questa è stata cattiva, sì Questo con qualche livello in più Lo avrei tritato Assolutamente Lo avrei tritato Sì, sì, infatti risparmio i corvi, ragazzi, piccoline Mia nonna si chiama Gioia Per l'appunto, ragazzi Eh, però questi li devo fare No, 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 no No, 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 no No, cambiate te Che mi seguano nel merdaio Se vogliono Venite Venite Non penso No, infatti Ah, lì c'è un oggetto Non l'avevo mica visto Poi vediamo come recupero Anche lì sopra Ce ne sono due Però che cazzo lo piglia un oggetto qua sopra Eh Strano, eh Vabbè Intanto Il level design qua è tostissimo È fighissimo Vedrai Vedrai Quanto Intanto Ci occupiamo di Sekiro Poi vediamo Full vita, full vita Questo va affrontato full vita Eh sì, per te è veramente molto resistente, infatti Guarda Guarda quanto in fretta ti ha devellato Eh, meh, meh Puoi provare con uno scudo No Ok No No, perché prima l'avevo fatto bene È chiaro che qui, ragazzi Non aiutano, però No, per niente, infatti Esatto Qui con un potenziamento all'arma lo sciolgo Perché l'avrei già ucciso 47 volte prima No, per rione senza paura No Qui non posso giocare Come Eh no Qui è un po' Qui provo un peri e son morto Mmh Ah beh, qui ci leviamo dal cazzo Proprio easy Lui va avvicinato Quando ha finito la combetta del cazzo, no? Ok Muerto Very good Let's go Sekiro parte 5 Dai, dai Che ti stai Gestendo con molto coraggio tutto questo Eh sì Questa combo è terribile Ma quello è un backstuff È una bella finestra, capito Ah Stama la sto mangiando Ma che cazzo gli avevo fatto, Perry? Mi sa di sì Ma con cosa? Ah no Cos'hai sentito? Un suono tipo Tunk Sì Quello è un contrattacco Ah Attento Attento Capito una cosa, però Non devo finire il mana adesso No Ma vaffanculo, vai Pure la grab di merda Sto stronzo del cazzo Ma vai a fare in culo Poi nell'angolino, cavolo Eh, non vedo più che altro Appunto, appunto, esatto Eh, fai a cagare Da un passo Ditemi che è unico Non è unico, è un disastro Allora Quello che ho capito È che se aspetto la combo Che ovviamente ha smesso di fare Appena l'ho capito Vedate Tut 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 Sì La lascio andare con un L2 Con questo Ok La grab mi ha fatto tiltare Esattamente Dicevo Se io faccio un L2 Un dodge Sì è unico come il vichingo molto bene ragazzi ok e dire che volevo evocarli sarebbe stato bellissimo ma non ci torno cazzatissimi ok oh droppino altra merda fantastica eh certo devi far bene la schivata questo è chiaro quante cazzo ne fa di azioni sto stronzo arriva non è un backstab dai ma non sto messando tutti i backstab eh si e devi aspettare un istante in più eccola bravissimo sono io proprio ci sono dato in bocca volevo prenderla questa mossa niente ragazzi non voglio far backstab oggi oggi backstab mi stanno sul cazzo li hai consumati ormai troppo tardi e sono fuori orario non è un po' non è un po' non è un po' Oh mio Dio Eh niente No ragazzi Mi sto per rompere il cazzo di questo DLC Ve lo dico Arrivando quel momento Fu introdotto In un certo modo Not by chance Assolutamente libero Arrivando quel momento Esatto stai facendo i suoi degli NPC adesso Ci sei You're almost there No ma più che altro perché c'è Dark Souls non è Quel gioco in cui devi Per forza backstabare 400 volte Per vincere Esatto Esatto Esattamente Allora Ti purga anche se livelli dicono Ma il livello è molto meno importante dell'arma Ma infatti il punto è proprio Il L'arma Non faccio danno Non faccio danno Esatto si Hai ottenuto qualche buon materiale in effetti Proviamo la buona vecchia Proviamo la buona vecchia Vediamo che succede Tanto siamo qua a provare No? Esatto Ah la vecchia amica Sì sì Non male È romantico Vediamo che succede Vediamo che succede Ma Per me questo era perrima Evidentemente no Eh sei tornato a una finestra di frame cattiva Quella della katana Eh ma c'era abbastanza abituato Col cazzo No 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 Neanche il parry funziona Puoi provare a provare con un buckler Con un parry con una finestra più Generosa Voi provato Intanto rimetto l'arma giusta Il parry alle due di notte con la katana Contro quello lì non era buono Effettivamente col senno di poi 60 attacchi almeno un era un bel Allora guardate Facciamo così Se non mi riesce questo Torno indietro Vado a Potenziare l'arma Provo a tornare dentro Se non va Mi sdo Perché Ci sta Perché non è una questione di difficoltà del mob Non è che uno dice vabbè non riesco ad andargli dietro Non riesco a fargli No certo è una questione di resistenza 9 Eh esatto esatto Diventa più difficile Mi fa sanguinare solo guardandomi Eh esatto zini Più che altro la paura è quella di non godermi il DLC E di avere delle belle fight che diventano tediose Solo perché sono troppo indietro Aspettiamo che faccia la sua combo pazza di merda Eccola Niente Perdo tempo a fare le due Ma se io lo scudo Io E non proprio lo scudo? Eh no È che In questo momento Penso che i santi siano tutti in colonna per me A cantare Capito cosa penso? Sì Occhio al sanguinamento che è arrivato eh Sì lo vedo Io mi curo E questo mi ammazzo Ma guarda Un try perfetto direi Fantastico Ho dovuto tutte le estus Non ho ancora fatto niente E sto per spaccare Il dual sense In due Lo faccio diventare Quattro sense Almeno Dual sensed Esatto Scrivono in chat Pensare che tutto questo è fattibile in level 1 Mi fa sinceramente impazzire Level 1 Con un equipaggiamento Diverso No ma credo che il discorso sia Minchia quanto è forte la gente che lo fa level 1 Sì Ma io ho corretto dicendo che Il level 1 Non è plus zero Ragazzi Dark Souls 1 L'ho fatto anch'io Solo level 1 Senza Fare chissà Quale incredibile Prodezza Se vieni qua Con un'arma Più 8 Più 7 Più 9 Tutto cambia Ho capito Anche a livello 1 Adesso il problema Non era l'arma ragazzi Adesso il problema Che ho preso una quantità di cartoni Questa volta sì Però prima l'avevo L'avevo fatto serenamente Po 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 E poi appunto Il solo level 1 O anche il No upgrades Non lo fai blind No certo Certo Questo Questo chiaramente Ok Dai Proviamo con quest'arma Tentar non nuoce Magari si stunna Con la merda di spadone Dai Il problema è Doggiarlo Mi sento in Dark Souls Dark Souls 2 Doggiando sto cesso No No baby Ma come si fa Ma non gli fa nulla Eh ma perché l'arma del boss È più uno Giusto Sì Torno a potenziarmi Non gli faccio niente Prova a potenziare qualcosa Magari Esplora Esplora Un'infusione Un qualcosina Ormai hai tante titaniti E anche qualche titanita è grande No ma io sono d'accordo con chi Con chi dice che secondo me Potrebbe non essere Il momento Però prima Fatemici provare con l'arma potenziata Se non va Non è il momento È buona Perché Non mi dà L'idea di Mi sembra Una sfida Ragionevole Che non sto capendo Cioè Mi sembra proprio una sfida Impari del cazzo Infatti Cosa Ti disse All'inizio della live È strano Che fra un software Metta un messaggio Se ha messo un messaggio Te ne devi andare Però ragazzi Madonna È sacrosanto È fare una live E provarci Però io qui Secondo me Anzi Guai al contrario Guai proprio Allora aspettate però Devo usare Devo usare il 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 Animo No ragazzi aspettate No 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 Ora non parlo con nessuno Quei donati No divento scena Adesso fatemi No 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 Nessuno parla No adesso no Raga Contesto C'era C'era mi metto a parlare con la gente E finito Non posso potenziare le lame Oli fatto Non posso potenziare niente Sono già Ah sono più cinque Quattro Che diventerebbero più cinque Ah diventerebbero più cinque Ok Eh guarda se vuoi un consiglio Su come poterla potenziare In un sec C'è Un secondo un cazzo C'è una soluzione Per potenziarle Dovresti picchiare Il lupone Hai papà lupo Eh sì Se tu riuscissi A Sconviggere Diciamo Il papà lupo Quelle armi Diventerebbero più cinque Sai Just Just saying Certo Non è proprio una cosa Immediatissima No No Con tutti quei lupacci Ma come si fa Capito Cioè ho cambiato strada Proprio perché i lupi Mi stavano Fottendo l'anima Sì Esatto Sono davanti a due muri Da una parte c'è il lupo O comunque i Giganti Pazzi Sgravati Vichinghi Assurdi Beh D'altronde La vera Anche difficoltà Nata da questo È che stai affrontando Ogni cosa Da solo No no Eh beh certo Però era quello il senso Eh sì Per forza Per forza Sennò se lo facciamo in due Praticamente lo farmiamo Over livelliamo Senza neanche Renderci conto Di quanto è difficile Cosa Dai proviamoci La freschezza purtroppo Non mi aiuta In questo nome Niente lo ferma Non lo ferma nulla Mamma mia Mamma mia Che fastidioso No 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 Basta No Non è Non funziona Rallenterebbe la run Senza un motivo E senza un Aggiungere nulla Né alla mia Né alla mia esperienza Adesso Né alla All'esperienza di intrattenimento E secondo me Più che altro Non lo merita Questo mondo Cioè Questo mondo È un mondo Pieno Zeppo di lore Esatto Super mega Ultra Figo da analizzare Ma così Cioè Battuto questo Ce ne sarà un altro Ancora più E poi il boss Cosa fa Eh sì È capito Ma infatti Ho fatto con l'introduzione Non a caso Vado a recuperare roba Non a caso Cioè Oddio 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 Eh ragazzi Questa è la Stanchezza Sì esatto Esatto Questo sono io Che trito 6k Perché gli altri 6 Le avevo formate qua Questo sono io Fantastico Questo è L'emblema Di questa live Ma è perfetto Io Era Era preparata Era Un'esperienza Curiosa Cioè Per me Era impossibile Non provare Era impossibile Non mettere In dubbio Il bivio Di questo deal Sì Cioè qui Abbiamo Abbiamo provato Tante cose Siamo riusciti Comunque a fare Tante pipe I lupi I vichinghi Infatti sei arrivato avanti Però No Non ha alcun senso Questi cosi Sono veramente Troppo forti E Tra l'altro Il mondo dipinto Mi sta dicendo Per due volte Palesemente Di levarmi dalle palle Anche tramite I dialoghi Esatto E a differenza Delle catacombe Che erano più difficili Questo è semplicemente Too much Non è una questione Di difficoltà È una questione Proprio di Quando tu sei arrivato Alla fine Di quel cazzo Di mob Dopo averlo Backstabato Sette volte E comunque Non sei riuscito A ucciderlo C'è una sorta Di decremento Della curva D'apprendimento Del mob Che mi porta A fare poi Sei trai di merda Perché ci sono arrivato Talmente tanto vicino Ma comunque Il gioco Non mi ha premiato Perché faccio 300 Di backstab A volta Che poi Secondo me Non c'è neanche Una ricompensa Per me qui In questo momento Sarei ricompensato Da aver fatto il corvo Per poi fermandomi Cioè per poi Fermarmi 5 minuti dopo Secondo me ci saranno Altri muri Ma Continuo a dirti Abbiamo cominciato Questa serata No no infatti Infatti non mi sento Sconfitto Esatto Esatto Bravo Bravo Esattamente Non voglio Non voglio darti L'impressione Di sentirmi Sconfitto Sento che Non è Giusto farlo ora Il gioco prevede Che lo si faccia dopo E se fosse un DLC Di Dark Souls 2 Ti direi Vabbè sai cosa Corriamo come dei pazzi Andiamo a trovare Le reward Però qui cosa faccio Ogni cosa ha un ruolo Esatto Arrivo dopo aver fatto Questo corvo Stanco morto Ne trovi altri due Incazzati Come una farina Non solo Magari c'è Che cazzo ne so La pittura L'alto rilievo Più incredibile Del mondo Con Velka Passera aperta Io oh mio dio Devo capire Che E invece No perché sono Devastato Da come il corvo Mi attacca Quindi Ma non sono ragazzi 50k persi Sono 50k Non fatti direttamente No esatto 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 Non sono persi Perché in realtà Il guadagno Sono Diversi oggetti Unici E Il fatto che abbiamo Due falò interni Ad Ariandel Capito E quindi io vi direi Semplicemente Che proprio Questa è una live formativa Nel senso Il puntile 2.0 Però Stavolta Non è realmente Il puntile Perché il puntile Era da fare Mentre questo no Non ora Questo è un contenuto Endgame Che cerco di fare A livello 40 E vabbè Non abbiamo detto Il livello Ma con le armi Che fanno schifo E bla 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 E Quindi Morale della favola Per me Questo è È un Arrivederci Ariandel Che verrà fatto Quanto meno Con le Con le armi migliori Con tutto Con tutto migliore E Secondo me Ora rispondo a Talos Dragonborn Che scrive DS1 invece Potevi affrontare tutto Anche se con difficoltà alta Ma è artificiale Derivante dai nemici Con statistiche Soverchianti Diciamo che se il ragazzone Fosse riuscito Avesse dovuto In qualche modo Raggiungere Il caro vecchio Santuario di Ullasil A su level 30 Le cose sarebbero andate In maniera abbastanza Drammatica Però Qui Ariandel È Punitivo Di certi setup Ed è particolarmente È bravo È lì che volevo arrivare Bravissimo È lì che volevo arrivare Cioè Secondo me Questo è fattibile Esatto Scudo medio Già uno scudo Cambia completamente L'esperienza di Sidonia Qua ragazzi Uno scudo 100% difesa fisica Un po' di stamina Ma Non voglio Snaturare F Esatto Non ne vale la pena Perché devo Snaturare F E mettergli un setup Che non è il suo Per fare per forza Un DLC Prima del tempo E sì Ma certo Era Esattamente È proprio lì Che volevo arrivare Cioè ok Potrei metterlo Scudo e prendi questo Oppure potrei Farmare Per potenziare Un Un'arma Più 10 Poi però esco Dal DLC E mi trovo più 10 Con quell'arma Che invece magari Sarebbe dovuto arrivare Naturalmente Con la sua storia Con la sua storia Con le scapi Cioè capito Con la sua storia Con i suoi momenti Secondo me Non è Non è il Mi sembra perfetto Infatti Non è il momento giusto Questo ci serve Come Saga Di Come che si chiama Kuma Quello di One Piece Ah sì Sì Q Si chiama Kuma Q Ma non so Ma Però dovrebbe essere Quello che teletrasporta Quello che teletrasporta La gente Esatto Quello che teletrasporta Siamo lì Cioè qui Siamo stati disintegrati Dal DLC E F Capisce che fa schifo E Fighissima Sta cosa Che deve andarsene Che deve andarsene Se ne deve andare E E E poi Tornare indietro Quando avrà Un po' più di vitalità Un po' più di stamina Anche quella Fa tantissimo E Avrò Imparato anche Tanti altri Pattern Di 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 gioco Non sono pronto Non sono pronto Per questo Per questo DLC Potremmo farlo Ma ci metteremo Davvero troppo tempo Che è quello Che ho detto io all'inizio Esatto Cioè perché Quando lo possiamo fare Tranquillamente Con più calma Insomma Godendocelo anche Di più Esattamente Cioè capito F ha dovuto rinunciare A essere bello E solo questo Fa capire Quanto siamo lontani Da Da quello che dobbiamo essere E Non va bene Torniamo alla cattedrale E fermiamoci Perfetto E Rispondo un momento Alla chat Anzi In realtà Non serve No Questo si può rispondere A entrambe Alle chat E Allora Non so se No Lo dico solo La mia Lo dico solo La mia Tranquillo Tranquillo Lo dico solo La mia No no La prima puntata Della stagione 1 Non è stata un flop Perché non è teatro Non è teatro Non dico assaido Di non fare il DLC Per teatro Non funziona assolutamente In questo modo Anzi È stata proprio L'introduzione A mettere le basi Per fargli comprendere Che non avrebbe dovuto Ma è la sua Blindran Non è L'anima oscura Non si fa Da dungeon master Il controllo forzato E il meta Mi ha ricoglionito Adesso muovi Anche da loro Non funziona così Nel modo più assoluto Sbagli su tutta la linea Guardi Tutta la linea Tutta Tutta Al 100% Basta essere quadrupedi Perché proprio Non In quel commento È tutto sbagliato Stavolta Stavolta tutto Perché Ariandel Ha avuto La massima importanza E protagonismo Stasera Alla grande E lui Anzi Ha giocato Come avrebbe voluto Come avrebbe dovuto Con il mio avviso iniziale Esatto L'episodio Batosta Che tempra il protagonista Attenzione E tra l'altro Continuo a dire E questa cosa Mi fa incazzare Come una faina Che non lo capite Il DLC È Nella strada principale A early game Senza segreti Non è che lo schivi Perché È un segreto No Piantatela È lì Il gioco È lì È lì Non è che Ce l'ho mandato io Perché volevo fargli fare Il DLC E Dai Anzi Ho messo le centomila Mani avanti Per fargli capire Di non vergognarsi Qualora non ce l'avesse fatta E non ce l'ha fatta Come è naturale Che sia Senza colpe E ha scoperto Cose interessanti Ha fatto speculazioni C'è stato Sullivan La discussione su Sullivan È stata L'episodio centrale Con il thumbnail Della madonna Mi ha distrutto Psicologicamente La serata di stasera Non riesco a fare Neanche quello che so fare È stato È stato Proprio Sia in Personaggio Che giocatore Qualcosa che ti rimarrà Tornerai Ad Ariandel E gli darei fuoco Letteralmente Sullivan di merda Sì ma adesso voglio Tornare dove eravamo rimasti Prima di chiudere la live Che cazzo Ok Ah perché non hai acceso il falò È vero Eh no A quanto pare no Vabbè ma tanto è Cioè io faccio del mio meglio Per rendere tutto il più bello possibile Ma almeno questi muoiono dopo un colpo Non è un contenuto scritto e preparato Non esiste il flop È un E questi Decedono effettivamente Che poi Io cerco di Impreziosire Devo fare i 40 backstab Ogni istante Con chi che ha anche da anima oscura Mai la sua blind Una cosa è Quello che abbiamo discusso negli extra per le quest Un'altra è dirgli Guarda questo è il mondo dipinto No Non farlo Ma se avessi comprato il gioco No Non funziona così Non funziona così Il finale che avremmo avuto Sarebbe stato Queste armi Ha la capacità Di lasciare a uno di vita tutti Per ora Solo per ora Ok ok Comunque sto Sto riacquisendo il controllo di me stesso Ok 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 Sta tutto tornando normale Sta tutto tornando vivibile Anzi Anzi Io non dico che non sia stato noioso Attenzione Cioè Episodio Brutto Noioso Senza progresso Non significa Flop Perché flop vuol dire sbagliato E non è stato sbagliato Cioè Flop in questo caso Nel commento L'evangelista Ma in modo diverso Nel commento era sbagliato Perché ho sbagliato A non fargli fare E se lo avessi aiutato Peggio E se lo avessi aiutato Cosa avreste detto Se lo avessi aiutato per andare avanti Peggio mi sento Eh no Eh no Eh no Ero qui E qui mi fermo Va bene Perfetto Siamo andati dentro il dipinto Di Ariandel E dopo aver scoperto Di Sullivan E aver provato qualche battaglia Siamo scappati Come Frida Ha consigliato Gentilmente Dinanzi A un fallo Che ha definito Debole Ma funzionale È la prima volta È la prima volta che senti citare Un fallo Debole 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 Come tutti credo I fallo attualmente Forse lei è la prima a ammetterlo Quindi Non credo che sia debole Perché è quello del dipinto Credo sia debole Punto Tutto qui Esatto Ragazzi Torneremo più forte di prima Bella live Io mi sono divertito Spero vi siate divertiti anche voi A vedermi perma morire Maestro A presto La ringrazio A prestissimo E ci vediamo domenica Ci vediamo domenica Oh sì Continuando La cattedrale Eh già Chissà che succederà La cattedrale Della purificazione C'è Diego? Sì c'è Diego Perfetto Lo raiderai Se sei d'accordo Assolutamente Buonanotte maestro Buonanotte a presto Ciao Ciao Ok Io qua non chiudo niente Tra l'altro il gioco Ti dice che non devi entrare Non devi entrare Ma A seconda del tipo di giocatore che siete Ma non esiste ascoltare un consiglio del genere Finché non ci sbatti la faccia tu Finché non scopri che davvero Non ce la fai Ovviamente Quindi è stata l'esperienza blind Perfetta Perfetta Cioè Perfetta Poi ovvio All'epoca noi non avevamo il DLC Non avevamo il DLC E quindi ovviamente Le cose sono diverse Le cose sono diverse Le cose sono diverse Ma poi è normale da videogiocatore Impazzire E rimanerci male Ma io ho messo le mani avanti Proprio Perché sapevo Che dovevo renderlo consapevole Che poteva vincere Così che si sentisse libero Di lasciar perdere Il discorso che ho fatto all'inizio Secondo me è stato perfetto Quello è stato veramente perfetto Poi il resto Se insiste per tre ore In un punto solo Non devo impedirgli di farlo Perché altrimenti Non è una blind run È teatro E Ve ne ho parlato più volte Il contenuto qui È la sua blind run Pura Il più vera possibile Con me Che gli costruisco intorno Le fondamenta Per renderla il più bella possibile Priscilla è morta Gold Berserk Non era eterna Purtroppo Priscilla è morta Se avessi detto appunto Cioè Anzi Cioè Voi dovete anche rendervi conto Di una cosa Alla quale forse Non pensate davvero Non abbastanza almeno Adesso Vi dico Da quel Poi da un commento singolo Ma Vi faccio una sgridata Se non fosse per me Ne ha Neanche L'avrebbe letto Il messaggio Che non si deve entrare Oh Ma vi pare che avrebbe letto Il messaggio Solo i potenti Possono andare avanti Senza di me Ma vi Ma Vi prendete per il culo Ragazzi siate un secco Che cazzo Ok No non mi sto agitando È che Mi piaceva la discussione Non sono agitato Davvero Non far intendete Sono Non sono per niente Arrabbiato Sto difendendo Saidonia Sto difendendo Proprio lui E il fatto che Non è una Serie teatrale Cioè Mi sono allontanato Per non fare rumori Sul microfono Proprio perché Non sono Arrabbiato Non sono agitato Stavo Era figo Era Sono cose belle Genimamente Cioè Non è che Sono arrabbiato Con la chat No no Sto ancora giocando Perché ho detto Quasi quasi Andiamo avanti Sono le due e mezzo Del mattino E voi siete qui E io Tra l'altro Non ho detto a Saido Di rai dare me Perché Appunto volevo Che fosse sereno E che la cosa fosse finita Vedete Questo sarebbe stato Il finale Per Saido Questo sarebbe stato Il finale Per Saido Il controller Non è dorato È dorato È vero Ma è color sabbia Sabaku no maiku Finalmente Senza webcam Non direte più Che è viola Finalmente Blu pureia Vedete Blu pureia E viola Sottorima Sul controllo Sono i miei tre canali Come sta Come sta mamma? T'is good T'is good When this is done May I return The door is open Thanks to thee T'is good I promise Ah Ah quel ponte Ah la campana Nella foresta Santo cielo Quanta roba Ragazzi come fa? E non posso farvi vedere Perché mi fa il fuorifuoco Vedete fa Vedete Guardate le scaglie Guardate le scaglie Sulla pelle Cioè Avete bisogno Di altro Più gli occhi Anche serpentini Cioè È ovvio Che è figlia Di Priscilla Lei è figlia Di Priscilla Non è Scritto In una descrizione Ma è figlia Di Priscilla E se Rasciassimo Verso il boss No forse no Dai forse no No Non si fa Dai Hai altro da fare? Dormire Che cosa cazzo Ho visto un messaggio Ne riparleremo Ne riparleremo Solo che purtroppo Non ho Visto Vabbè Io rascio Guarda quella campana Guarda quella campana Rimosto da dove doveva essere Chissà perché Però purtroppo Non ho visto La risposta Del ragazzo Perché Ho fatto Tutta la discussione Ho lasciato Poi Un secondo Di vista La chat Ed è andata Io non ricordo Nulla Di questa parte Ragazzi Però non sto Sbagliando Vero Non No, no, no. Ok Secondo voi Francesco riconoscerà quest'area Ma sì ma Saido è ovvio che È ovvio che si sentiva triste Ma ragazzi allora io ve lo dico in maniera molto esplicita Sono sempre estremamente sincero e intimo con voi E lo sarò sempre La sincerità è fondamentale Voi lo sapete Noi videogiocatori specialmente quando facciamo questo lavoro Ci teniamo così tanto a dare Un bello tra virgolette spettacolo Ossia semplicemente un contenuto prezioso Che il fatto di dimostrarci buoni giocatori È sempre importante no? Quindi quando non riusciamo a vincere Un premio Che sia anche il superare un'area complessa Ti si spezza il cuore Ma io È per questo che ho fatto l'introduzione Per proteggerlo Perché io Allora Io sono una bestia Io probabilmente avrei ancora continuato Rovinando il contenuto Cioè Oh no Mi ha fatto la presa E tra l'altro E tra l'altro Sì io l'avrei completata in blind Però una cosa È fare una run di coppia In cui lui si rende conto che Sta Violentando il titolo E magari io avrei proseguito contro il corvide E deciso di tornare dopo Può essere? Può essere Tanto che Infatti La sua esperienza Secondo me è stata perfetta Ha trovato i muri Ha capito quali sono E Io stesso Qui Per seguire la partita di Francesco Vi ho evocato per giocare insieme Ma anche per semplificarmi la vita Mi sono perso un Q&A Eh perché durante le run Di questo tipo Non Non sto troppo attento Perché non le metto a schermo I miei Adesso mi guardo Perché la moderatrice Mi ha già dato I dati E sono felicissimo Però Il succo è Che Non ho fatto l'introduzione di gameplay a caso E Pensavo saremmo arrivati Al Pensavo che saremmo arrivati al boss Ma anche Che non si sarebbe impuntato A fare certe cose di pulizia delle mappe Che ovviamente rendono una cosa Tra l'altro Folle Con un setup Senza difese Come il suo Cioè lui è genuinamente senza difese Ragazzi Senza scudo Eh io anche sono senza scudo Ma infatti prendo pizze E conosco Dark Souls 3 No? Ah Ip3 Dalle 2.40 Fico Tanto che tra l'altro Essendo blind E con voglia di speculare In realtà Ok Il genere Souls Il sottogenere Souls Ma in generale Il concetto stesso di GDR Con mappa aperta Con mappe a scelta È Incredibilmente legato Al Trovare una strada Troppo difficile E tornare indietro Lo sapete Fa proprio parte Del design Tanto che probabilmente Anch'io sarei tornato indietro poi Se mi fossi reso conto che Effettivamente Cioè io avrei Io avrei Giocato Cambiando setup Se fossi blind totale Ma lui ci tiene Anche in questa blind qui A Capire No Io ho fatto un personaggio E lo tengo Per mantenere Anche un racconto Ci sta da dio Io l'ho fatto più volte Questo Più volte Più volte Più volte Eh dai Che pizza che siete Cosa? Come c'è? Come c'è? Come c'è? Al diavolo Il Q&A Allora Ah ma Ah grazie Forcluse Mi ha fatto vedere Le risposte di Quarge Oh Grazie 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 Oh Ma la La cocciutaggine Di Cedonia Deve essere protetta Anche se Talvolta Può uscire Una serata Poco divertente Magari Al posto di stare così Con l'occhio Sullo schermo Mi potete mettere a fare altro O semplicemente Averlo in background Ci sta Ma preferisco Ma preferisco Lasciarlo essere Se stesso E Accettare il fatto Che a volte Ci possano essere Dei momenti No Di Di stallo Tra l'altro Dichiarati Anche a lui Per dargli Consapevolezza Che non ci fosse Niente di male Piuttosto che Invece Violentare La sua esperienza E dirgli No Tanto non ce la fai Non sei buono Che non è vero Hardcore gamer Com'è È evidente Tutto quello che ha fatto Fino ad ora Altro che Se è evidente Infatti Una delle cose Che più ho apprezzato Della Della nostra esperienza Insieme È stato scoprire Anche il suo essere Il suo lato Videogiocatore Così congruente In questo al mio Il lupo è un eroe Ragazzi E Vorrei chiedere Ma il mondo Ripeto di Arian Diel Che collegamenti ha Con quello di Ariamis Esattamente È nel passato O nel futuro È ovviamente Ovviamente Scusami Non è per sminuire È assolutamente Nel futuro Remoto Come tutto Di Lotric E tutto Di Dark Souls 3 È nel futuro Remoto Ed è lo stesso Dipinto Restaurato Da Ariandel Solo che In un certo Modo È con un Se volete A voi ve lo dico State attenti A voi ve lo dico Il problema Del dipinto Tutto quello Che si discute Sul fuoco Tutto quello Che è lo scopo Di bruciare Il dipinto È Purificarlo Da cosa Dall'oscurità Perché Perché l'oscurità Ormai è talmente grave Talmente distruttiva Che sì Il punto di tutto Il Il colpo di scena Di Ariandel Quello che si discuterà Tanto anche Nell'anima oscura È che Ragazzi La stagnazione Ha raggiunto Il dipinto Ha raggiunto Il dipinto E quindi È gravissimo È gravissimo Sul sangue Ne parleremo Per bene Magari quando Non so Se volete Vi anticipo qualcosa Se volete Possiamo fare Un discorso Un po' più intimo Sul sangue Non trovate No 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 Velka non è Il nano furtivo Allora Possiamo parlarne In maniera Un pochino Più intima Preparatevi A una piccola serie Di chicche Ma qui non c'era Non mi sto perdendo Qualcosa Qui Cioè Poi tra l'altro Eh C'è una parete illusoria Vero Tra l'altro Lo sapete che Nell'intimità Francesco Non si sarebbe mai fermato Cioè io lo conosco come videogiocatore Lo conosco Non si sarebbe mai fermato È proprio perché Non si sarebbe fermato Che all'inizio Gli ho detto Tranquillo Vinceresti Perché l'avrebbe fatto Avrebbe vinto Capite? C'è da dire che la sua chat Lo stressa molto Perché è blind Ma anche voi Stressate molto Non mi ricordo Dov'è il muro invisibile Ah eccolo Ovvio Allora Scherzi a parte Ragazzi Parliamo in un secondo Intimamente Io Il co-writer Mirko Stiamo lavorando All'anima oscura 3 Per lo meno Di preproduzione Per ora Ovviamente Per diverse ragioni Ragazzi Anche con tutte le risposte In mano Ah ma qui No Non ci interessa Ah no In realtà si ci interessa Anche con tutte le risposte In mano Anche con tutti I se E i ma Risolti Non è cambiato nulla Nei confronti del sangue Non è più Una cosa casuale Non è più Una cosa insensata Perché tutto torna Tutto è perfetto Tutto funziona Anche rispetto a Dark Souls 1 Funziona tutto Splendidamente Ma non mi sentirete mai dire E mai giustificare L'idea Non mi piace E credo che Non piaccia a tanti Con la massima ragione C'è anche Dada Che ha visto che sono così tardi online Il sangue ragazzi È il veicolo Dell'anima Come in Bloodborne Esattamente come in Bloodborne È Un sottile retcon Visto che comunque Le pozze di sangue Dell'anima Dove prendi le anime Hanno il sangue sopra Si chiama pozza di sangue Anche in Dark Souls 1 Perché Il sangue Veicola l'anima Il segno oscuro È sul cuore Pompa L'anima Ragazzi È proprio così A lui È piaciuto Collegare Dark Souls Anche a Bloodborne E funziona Ha perfettamente senso Ma a me non piace Perché non è corretto Cioè meglio Non È corretto Ma non mi piace Non mi piace perché Il sangue stava bene dove stava Non Non era necessario Citare così tanto L'idea Rendendola canonica Perfetta È Perfetta È una figata Emma Sono d'accordo È una figata È stupendo È una figata Ma a me non piace comunque È giusto che vi piaccia Perché una volta spiegato bene Con lo stile dell'anima oscura Vi piacerà sempre di più È stupendo Ma non geniale in questo caso In Bloodborne è geniale Qui non è geniale È un peccato Ed è anche il motivo È il motivo per il quale Il sangue di Elfride Raggiunge il ricettacolo È il motivo per il quale Ariandel Ressuscita Lei Ressuscita lei Perché incendiando il sangue Collega la sua anima con la sua Attraverso il sangue Per questo non è una sola barra della vita Cioè Capito? È fighissimo È o no È certamente fighissimo Ci sono tante figate Tutto torna alla perfezione Però A me comunque Come soluzione Non piace Oh Calmeno Ma poi ne parleremo meglio Ovviamente Meglio di così E basta Io tra poco vado a dormire Però vi lascio un finale speciale E poi Saido è stato bravissimo Senza fare danni A fare quelle schivate Veramente bravo Sono un sacco contento Dei suoi risultati Un sacco contento Dei suoi risultati No Questa roba del sangue Non si vede solo con Frida e suo padre Si vede anche con il sangue dell'anima oscura Per fortuna che non c'è Saido qui perché stiamo andando un po' al limite Assoluto Come si vede anche con il sangue Prego prego Thou art ash Thou hast a pact made with uncle Gail So I wish to tell thee all Behold its size This is my canvas It's to be a cold Dark and very gentle place But first I must see flame I wish to paint a picture Of the cold One day It will make someone a goodly home That's I wish to paint a picture One day That's why I must see Flip Il motivo per il quale probabilmente Lei vuole l'anima oscura Come pigmento E perché Ma se l'anima oscura viene anch'essa dalla prima fiamma Perché il dipinto fatto con il sangue dell'anima oscura Dovrebbe avere un destino diverso dagli altri Stavo per rispondere a questo Ah sì Esatto Anche con gli Abyss Watchers Il sangue è importante No ma Non è che il sangue è importante con gli Abyss Watchers È semplicemente la stessa cosa È la risposta base Nel senso È ciò che avrei poi spiegato anche a Saido Ragazzi è molto semplice Gli Abyss Watchers Accendono Il solo Eh sì il solo Il Lord of Cinder Perché trasferiscono la loro anima Tramite il sangue Il sangue è il veicolo È il medium dell'anima in Dark Souls 3 È in Dark Souls È così È canonico Punto Ed è perfetto Funziona da Dio A me non piace Però funziona da Dio E mi fomenterà da morire parlarne Mi ferranno i brividi Mi ferrà il batticuore Quindi Capite Cioè funziona da Dio E È lo stesso discorso del sangue di lupo Capite Cioè è quello È così È una figata Esatto Oh Well There is nothing forlorn About you You must be the other Ash I suppose Ah Oh Finally Oh wondrous Ash Make the tales true And burn this world away My lady must see flame And you have only to show her You are Ash Are you not Surely you have seen The rot The rot that afflicts our world But that which fooled the good father After we had all made up our mind So Please make the My lady must see flame Oh Oh I am so terrible Like those Capite questo Oh I am so terribly frightened of timidly Rotting away Like Come quegli stolti là fuori Perché gli stolti là fuori Sono quelli che stanno vivendo la stagnazione E noi nel dipinto Possiamo dare il loro sollievo Bruciandolo Per crearne uno nuovo E quello nuovo Serve Per creare quello nuovo Alla pittrice Serve il pigmento dell'anima oscura Perché L'umanità Si può dividere infinitamente Cioè l'anima oscura è eterna L'anima oscura L'oscurità È la vera natura finale Quindi Presumibilmente Non si corromperà Perché è già oscuro Perché è la fine Perché è l'infinito Cioè È questa l'idea Bruciare il dipinto È un microvincolo Esatto Solo che ha regole diverse Esattamente Esattamente E non è un loop infinito Perché l'altro quadro Secondo la pittrice Non può più stagnare Perché non viene creato Con la luce Non ci sarà luce Cioè È accogliente Ma non può corromper Che spettacolo che è questo DLC A livello Non di contenuto Non di quantità Ma di stile Cioè capite Quanto Ok questo non è un extra Questo non è un extra Ma vorrei aggiungervi questo E questo è Molto 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 Canonico Falanx Ha appena scoperto Dopo aver visto Elizabeth Dopo aver affrontato Tutto quello che ha Dovuto Combattere Per raggiungere Per raggiungere qui Che il culto Di Gwyn Il sacrificio E l'abnegazione Per quella Cultura È rimasto Questo significa Che il suo sacrificio È stato inutile Ancora più di quanto Non supponesse Perché la stagnazione È giunta Fino a qui Falanx Non ha usurpato La fiamma Per diventare Un signore oscuro O per Egoismo E forza Cercate di ricordare Il finale Dell'animo oscura Falanx era un personaggio Positivo Nonostante tutto Era semplicemente Un barbaro Capite? Questo corbide gigantesco Non mi ricordo La boss fight Come vorrei Quindi no Mi viene da Poi faccio Una citazione Dell'introduzione Per farvi capire Un'altra cosa Vedete Elfrida Si è Travestita La Priscil Non per ingannare Ma per far sentire A proprio agio Chi la Seguiva Io non ricordo Nulla di sto boss C'è il Perry Ok Ok C'è il Perry Ok Mamma mia Guardate che Di miseria Non ricordo Quasi nulla Ah peccato Ai e danni Non finirà bene Questa è la fase 1 E' quella facile Oh che bello Sto dialogo Oh figo Fighissimo Questa non è la boss fight Questa è una cazzina Interattiva E' questo ragazzi E' molto Bloodborneano Ma è questo No Falanx ha già avuto Il suo scudo Ufficiale Dichiarato Di nascosto Durante una live Bloccato Perché non può Accendere il dipinto Elfrida Non vuole Che accada E lo ha fatto Stagnare Potre fare Non vuole Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho fatto un airshot. Devo grattarmi il naso. Devo separarle. Alla fine l'IA funziona molto bene perché lei non ci è attaccata vicino. Alla fine. Alla fine. Non mi sento troppo in colpa di quel corpo. Non è giusto. Non è giusto avere l'occultamento della telecamera così... Non sono stato avido. Ero tecnico ma la telecamera occultata mi ha impedito di schivare con la stamina che avevo nel momento giusto. In questo caso non mi sento troppo in colpa. Mi sento tradito da un momento in cui Ariandel, grande com'è, ha occultato la camera nel momento sbagliato. Poi è un 9 Estus comunque. Solo che purtroppo la morte è così veloce. Guarda qui. Guarda qui. Corre Ariandel Eh ho capito Non posso mai colpirti Cerco una finestra E mi fai le pernacchie Io ci provo eh Cioè pensavo di aver trovato una finestra ma E poi a occhio questa fase è così facile Eppure ti frega così tanto È solo in ten run Ma per qualche ragione a volte Oh no Dai ho finito la stamina nel momento esatto in cui non dovevo finirla Oh finestrona Finestrona Oh no Se Diego fa raid al posto di riceverlo è tutto dire Oh no Oh no Woof 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 Nooo Mi ha fregato Mi ha toccato quella punta Haha ti ho fregato Mamma mia se era un backstab questo avrei urlato E svegliato Lara No Come ha fatto How did you How Oh no 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 La vera forma No I non ricordo nulla Per esempio Non si deve rollare contro di lei Ok Neanche questo Io non so come Non mi ricordo nulla No ragazzi Non mi ricordo questa fase E' un buon finale Non mi ricordo nulla di questa fase Bele combo si fanno però Bele combo si fanno però Wow E' un bel finale E' un finale perfetto Posso rivederla una volta sola? La vedo solo una volta sola La vediamo solo una volta Un secondino E voglio solo vederla un momento Voglio solo rivederla un momento Un momento breve Secondo Velocissimo Che soddisfazione Infinita Boncarti tre volte Così Esatto Riprovaci Bel tentativo Così è la prima fase ragazzi Così è la prima fase Così è la prima fase Dai però devi coglierci almeno una volta al mese Noi, 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 noi Noi, noi, noi No 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 merda All'ultimo No 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 Signori, grazie di cuore di essere stati con me, il supporto ricevuto stanotte è stato commovente e unico, che vi avete apprezzato l'opening, il contenuto e tutto ciò che avete visto per me è stato prezioso e per noi speciale, il nostro essere stati decapitati in questo spazzo extra notturno da Frida della Fiamma Nera, sorella di Yuria. E' stato un bel ricordo di una boss fight che non ho mai studiato abbastanza che finalmente potrò rigiocare to my heart contenta con un'arma pesante, un'arma pesante e lenta che può schiacciarla terribilmente ma anche portarci a delle finestre contro noi stessi terribili da farle sfruttare. E' stato stupendo, grazie di cuore. Per chi vuole veramente fare after c'è un'artista amica di Diego che potremmo raidare secondo suo consiglio, io lo faccio volentieri. Detto ciò, signori, noi domani avremo il talk show di Sutorima 2.0, sarà veramente importante per me, motivo per il quale mi sento anche in colpa di aver fatto praticamente oltre le 4, visto che io mi ci metto oltre un'ora ad addormentarmi almeno, mi sveglierò con un'ora e mezza di sonno, no, due ore di sonno tuani. Sarà affascinante costruire tutto il setup di registrazione e le luci speciali per il video, sono stato molto poco lungimirante, ma grazie a tutti. Siete stati meravigliosi, è molto bello aver giocato a Riandel così stanotte. E ci vedremo presto, ci vedremo presto ragazzi. Certo che il Pantheon l'ho finito, assolutamente, ed è stata una gran soddisfazione. A presto ragazzi, fight!